ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco sciampier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti allora oggi puntatona perché oggi parliamo di bandi ma non di ted bensì di carol bandi e del suo compare douglas clark cioè i sunset strip slayers eccoci qui con una puntata che sarà ghiacciante ve lo dico già perché mettete insieme tutti i peggiori serial killer in un frullatore quello che ottenete è questa storia qua perché ci sono elementi da tutti gli altri e non solo lo stesso cognome di ted bandi comunque prima di partire facciamo gli auguri di compleanno ai nostri patreon perché in questi giorni hanno fatto gli anni o stanno per fare gli anni paola merio tanti auguri la nostra nuova patreon soppibup quindi ti salutiamo e ti facciamo anche gli auguri auguri anche no no auguri perché lei ci ha scritto mi sono iscritta in tempo prima del mio compleanno per farmi fare gli auguri il giorno del compleanno quindi tanti auguri soppi tempismo perfetto e poi oltre agli auguri per la nuova patreon anche gli auguri per una patreon storica che ci supporta da sempre e cioè sarà la nostra nati gosti tantissimi auguri tanti auguri sarà anche da parte nostra e poi auguri anche a sarà campa sì quindi un sacco di sarà tanti auguri ragazze grazie mille per essere dei nostri comunque stando a tema patreon ringraziamo anche i nostri nuovi sostenitori cosa sono i patreon sono i produttori di crime and comedy che si abbonano su patreon.com slash crime and comedy per aiutarci a portare avanti questo progetto quindi salutiamo la nostra nuova patreon crime stalker rachele innocenti grazie mille e salutiamo un po' di bristofili che si saranno iscritti da un po' probabilmente abbiamo avuto perché vi siete iscritti in tanti nel periodo in cui abbiamo fatto le capsule a giugno e non siamo mai più riusciti a metterci a pari comunque tante grazie per essere entrati nella famiglia patreon a viola nervini federica lo magistro alexandru andrea fiusco vale con tre delia elisa romito o romito marco come si chiama elisa eh non lo so romito secondo me romito romito vero a dir nonna non mi faccio domande su questo nick tanta roba alessia martelli 01 e caterina rossolini grazie mille ragazze uso il plurale femminile perché siete in maggioranza donne e grazie e vabbè lo sapete la mia battaglia è per il plurale femminile invece che per le lettere che non si riescono a pronunciare alla fine questa è la mia battaglia personale che nessuno condivide ma non importa non fa niente non fa niente va bene così allora adesso entriamo nel vivo di questa storia assurda di cui non si parla tantissimo o meglio non è che non se ne parla però non se ne parla così tanto come di altre altrettanto e meno cruente ma assolutamente ma infatti a me sembra strano perché tutte le volte che vado al bar alla fine cioè si parla del milan si parla di di robe meno cruente non si parla di questa storia qua che secondo me al bar dovrebbero dovrebbero parlarne tutti sempre ma non capisco anche l'ascensore l'altra volta sono salito con una ha chiesto senta ma che cosa ne pensa dei sunset strip slayers e lei mi ha detto ma guardi non lo so però in questi giorni fa molto caldo e te stia ragione e ma perché alla fine è una storia che si svolge anche nei torri di mesi estivi quindi per questo ha fatto un collegamento comunque allora iniziamo questa è una storia hollywoodiana non nel senso che ci sono star di hollywood anzi ci saranno l'esatto opposto delle star di hollywood ok c'è gente brutta sciatta e non famosa ok così subito per fare un po di body shaming ma il mio non è solo body shaming è proprio anche soul shaming cioè shaming generale ma poi mi capirete perché quando descriveremo i personaggi di questa storia ma è hollywoodiana nel senso che si svolge proprio fisicamente a hollywood perché la sunset strip che sarebbe la sunset boulevard è proprio la strada principale di hollywood ok cioè è lì hollywood ok che tra l'altro molti non sanno che hollywood è una zona super malfamata di los angeles lo è sempre stata lo è ancora sì c'è il pezzettino davanti al chinese theater sapete quella strada lì ci sono tutte le stelle per terra ok quella è turistica tutto però se cammini un po' troppo ci sono ancora le stelle per terra ma iniziano a esserci in giro solamente gli spacciatori ah questi sono i cadaveri ma probabilmente anche quelli quindi non è proprio la zona più bella del mondo sì ma anche perché hollywood cioè che cos'è che a parte la collina con la scritta hollywood che poi una volta era hollywood land e poi caduta il land è rimasto solo hollywood la sunset strip tra l'altro poi è una scritta che non c'è un posto dove riesci a vederla decentemente la vedi sempre piccolissima e ti delude sempre da lontano sì sì no perché il posto più carino dove guardarla è dove c'è l'osservatorio però è lontanissima cioè non riesci nemmeno a fare una foto decente giusto ma sai qual è il posto migliore dove vederla nei film nei film che la inquadrano più da vicino che è e lì si vede bene esatto è l'unico modo per vederla bene comunque prima di arrivare qua iniziamo dall'infanzia della protagonista di questa storia cioè la carol bundy che non è un caso che si chiami bundy non è imparentata con ted ma vedremo lei tuttavia non nasce bundy lei nasce come carol mary peters il 26 agosto del 1942 i suoi genitori si chiamano chars e gladys quando lei nasce ha già un fratello maggiore jean che ha sette anni in più di lei ok allora chars lavora come riparatore di attrezzature di cinema che non ho capito esattamente perché però questo lavoro lo porta in giro per tutti gli stati uniti lo fanno trasferire un sacco e dico ma scusa ma c'è solo uno che sa riparare le attrezzature del cinema in tutti gli stati uniti ed è chars eh sì poi comunque negli anni 40 cioè non è che c'erano proprio gli studios ovunque no quindi eh no ma attrezzature proprio da da cinema nel senso del teatro ah ok da luogo di proiezione esatto esatto in quel senso in quel senso quindi boh probabilmente appunto perché il cinema si stava diffondendo a macchia d'olio in quel periodo lì e quindi magari si rompevano i proiettori non lo so è possibile oppure era l'unico che aveva il cacciavite ok comunque per via del lavoro del padre Carol vivrà in giro per gli stati uniti ok continuerà a trasferirsi la madre di Carol invece Gladys è una bellissima donna che sognava di fare l'attrice e nella sua vita è riuscita solo a fare la comparsa quindi lei ha lavorato un po' come comparsa poi dopo si è sposata nasce primo figlio ammollato e quando nasce Carol lei ormai sta lavorando come parrucchiera che anche qua se si continuano a trasferire lei deve continuare a farsi assumere nei negozi di parrucchiera cioè comunque non sbatti eh sì ma io credo che allora mi sembra di aver capito che il parrucchiera no negli stati uniti i tanti parrucchieri affittano il posto nei negozi cioè non è che c'è il negozio di parrucchieri come qui in Italia che hai i 3-4 posti c'è la proprietaria del negozio con le diciamo dipendenti cioè lì è un po' diciamo cioè se tu fai il parrucchiere affitti la sedia no e quindi lavori nei negozi di parrucchiere però non è che ci puoi cioè non è che ci lavori da dipendente ci lavori tipo e poi paghi l'affitto alla proprietaria del posto ah ok come fanno con le spogliarelliste negli stati uniti sì esatto sì sì è tutto quello questa roba mi sciocca sempre ma negli stati uniti è la spogliarellista che paga il locale per andare a lavorare e ti dici ma che cazzo perché si basa tutto sulle mance sì 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 e penso che il come si dice il modello di business sia quello ma non solo per parrucchieri e spogliarelliste per tante altre cose tipo beh immagino cioè sarebbe strano solo queste due categorie comunque vabbè questa coppia sorpresa sorpresa non è una coppia felice non ce lo saremmo mai aspettato dei genitori che non sono una coppia felice eppure allora entrambi bevono in particolare Charles è a tutti gli effetti un alcolista ok Jean il fratello di Carol che ha sette anni in più di lei la odia a morte da subito proprio da appena appena che nasce la odia tantissimo e passerà tutta la sua infanzia dedito a farle scherzi più crudeli possibile più crudeli sono meglio è ma tra l'altro i genitori di Carol erano così dediti al bere che hanno chiamato il primo figlio Jean non ci avevo pensato perché si scrive diverso comunque quando nasce la terza figlia quindi la sorella minore di Carol che si chiama Vicky Jean inizia a terrorizzare anche lei e Jean faceva le classiche cose che fanno i fratelli rompiballe tipo decapitare le bambole però chissà forse a Carol sta cosa di vedere tutte le bambole decapitate le ha lasciato qualche cicatrice nel cervello che vedremo più avanti non lo so comunque nel 46 la famiglia si trasferisce per un bel po' proprio a Los Angeles quindi arriviamo in California Gladys allora dice perfetto siamo nella capitale del cinema ma io volevo fare l'attrice adesso ho la mia età mettiamo a lavorare i figli cioè c'ha la sua età nel senso che siamo onesti le attrici in quel periodo lì in quegli anni lì non è che a 40 anni c'erano tutti sti ruoli no c'era la classica cosa che lavori fino a 25 poi te ne devi andare a fanculo e poi dopo i 50 volte ci servono delle vecchie nei film cioè funzionava così le cose sono un po' migliorate ma neanche così tanto però sono migliorate sicuramente un pochino sì 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 un po' sì dai sì ma l'abbiamo visto anche in Vite Scomode con la Mansfield ma anche la sessa Marilyn Monroe a un certo punto aveva il problema di essere troppo vecchia per fare la bombshell quindi era un problema eh sì cioè il primo numero era diventato un tre ragazzi quindi mio Dio vecchia vecchia basta comunque vabbè in ogni caso Gladys mette a lavorare i figli a fare le comparse e loro fanno le comparse in diversi film tutti e tre soprattutto Gin Gin che è il più grande il più bello il più bravo il più talentuoso però Carol avrà una comparsata importante per quanto possa essere importante una comparsata però fa la comparsa pensa un po' a Marco in Miracolo sulla 34esima strada e lei fa una delle bambine che si siede in braccio a Babbo Natale arca miseria quindi è una comparsata illustre comunque sì perché in quel film lì avevano bisogno di bambini che sapevano sedersi in braccio a Babbo Natale che non è da tutti che non è da tutti no e c'erano proprio bambini istruiti per quella roba lì cioè ammaestrati vabbè comunque a sentire Carol lei ha avuto un'infanzia meravigliosa cioè se tu senti Carol la sua infanzia è stata bellissima genitori amorevoli e tutto però in realtà se si sente anche la campana della sorella o se si lascia parlare Carol a sufficienza iniziano a venire fuori delle cose che non sembrano proprio idilliache nel senso il padre Charles a un certo punto vieta a Gladys di picchiare i bambini tu dici cosa sta succedendo allora in quegli anni lì era normale erano anni 40 50 era normale prendere a schiaffoni i bambini era considerato una cosa buona e giusta da fare solo che Gladys li massacrava a colpi di cintura e li colpiva finché non iniziavano a sanguinare e allora Charles ha dovuto dire no ascolta facciamo così tu ti segni sul taccuino tutte le cose che fanno e li picchio io quando torno ecco come era piettoso il papà cioè questo è quello buono dei due quindi immaginatevi la situazione comunque come vi dicevo loro si fermano per un po' di anni a Los Angeles però nel 50 si trasferiscono in Louisiana e mentre sono in Louisiana un giorno Gladys ha un attacco psicotico non so se sia la definizione giusta perché non abbiamo referti medici di Gladys non abbiamo la diagnosi non lo sappiamo però ha un attacco strano non era la prima volta che aveva questo tipo di attacchi però questo è particolarmente grave perché quando vede Carol si mette ad urlare la chiude fuori di casa e inizia a dire sei un'impostora un'impostrice un'impostore femmina come si dice? Impostrice impostora impostora credo vero impostoressa vabbè sei quella non sei veramente mia figlia sei un alieno che ha sostituito mia figlia no in realtà non dice alieno però dice proprio sei qualcun altro un ultracorpo sì che finge di essere mia figlia e la chiude fuori casa la povera bambina sta ore fuori casa a bussare a chiedere alla mamma di farla entrare e alla fine andrà a piedi dove sapeva che stava lavorando il padre quel giorno per far sì per far sì che il padre la facesse rientrare a casa certo il padre impone a Gladys di farla entrare in casa ma Gladys per il resto della sua vita continuerà a dire che Carol non è sua figlia eh mi sembra un attacco sì psicotico paranoico sì ma il fatto è che non è neanche solo quel momento cioè lei da quel momento in poi basta quella lì non è sua figlia certo sì 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 cioè ma pensa vabbè al di là di povera Gladys fatela seguire da qualcuno invece niente ma al di là di quello povera Carol cioè pensa che trauma incredibile ma assolutamente sì ma infatti è cioè è una roba straniante ma infatti poi Carol avrà sempre un'invidia nei confronti di sua sorella minore Vicky lei diceva che perché Vicky era bella l'era brutta al di là di questo probabilmente la madre non aveva disconosciuto anche Vicky aveva disconosciuto solo lei quindi lei si sentiva proprio messa da parte porca miseria poi anche l'invidia di sapere che sua sorella è quella vera e lei no esatto no terribile ma il bello è che non è questo il trauma più grosso della sua infanzia perfetto stiamo solo iniziando allora Carol inizia a crescere crescendo diventa bruttina perché lei ha problemi di peso è molto sovrappeso tra l'altro mi fa ridere perché dappertutto dicono ah è estremamente sovrappeso poi fanno vedere le foto e fanno vedere uno che è una donna che ai giorni nostri sarebbe un'americana normo peso sì però per i tempi era grassissima ok no vabbè avrà avuto una taglia 50 52 da adulta sì sì quindi comunque però vabbè lei cresce sovrappeso ha gli occhiali a fondo di bottiglia povera stella ma proprio quelli hardcore e perché poi lei è stigmatica fate conto sono gli anni 50 quindi che razza di occhiali poteva avere e tra l'altro Carol ogni volta che si guarda allo specchio si vede sempre più brutta e ogni volta che guarda sua madre dice caspita ma mia mamma ha ragione a dire che non sono sua figlia perché mia mamma è bellissima anche Vicky è bella quindi lei è sua figlia io sono brutta sono un alieno effettivamente c'ha ragione mia mamma quindi lei inizia ad avere gravi problemi di autostima ma non sono semplici problemi di autostima è proprio una sensazione di alienazione appunto eh sì sì sono quasi crisi di identità però certo cioè se ce l'hai da quando sei piccola che cominci a mettere in dubbio te stessa cioè nel senso ma io sono quella vera o no sono un alieno e cazzo poi diventa un problema quando cresci eh sì eh sì comunque quando a Carol arrivano le prime mestruazioni quindi diventa una signorina cosa fa sua madre? si piazza davanti all'uscio di casa e sta lì tutta la giornata a urlare ah oggi sei una donna ora che cazzo ora io non dovrei dire niente perché mia mamma e mia nonna mi hanno fatto delle cose simili quindi vabbè perché a me sono venute tardi quindi stavano iniziando a preoccuparsi che fosse un alieno anch'io forse eh certo però cioè pensate che imbarazzo sono comunque gli anni 50 e poi non è che l'ha detto una volta o ha fatto una battuta davanti ai parenti cioè no si è messa a urlarlo a tutto il vicinato per ore certo sì ok comunque quindi non sei mia figlia ma da oggi sei una donna arriviamo al 1957 Carol a questo punto ha 14-15 anni e sua madre Gladys ha un attacco cardiaco ho letto solo da una parte in realtà che lei ha assistito a questo attacco non so se sia vero o meno però comunque trauma lo stesso quindi Gladys muore durante la giornata quella sera stessa Charles il padre prende le due figlie le fa sedere e fate conto che a questo punto io penso che Gin fosse andato via di casa perché lui aveva sette anni in più di Carol quindi a questo punto è un uomo adulto quindi perché non si parlerà mai più di Gin nella storia no secondo me è andato via di casa si è fatto gli affari suoi comunque fa sedere queste due bambine cioè vabbè Carol è una ragazzina l'altra però ha 11 anni e dice loro da oggi siete le donne di casa e quindi ora tu stai pensando beh dai gli fa tutto un discorso per cercare di consolare della morte della madre no dice siete donne di casa nel senso che da adesso dovete pulire voi cucinare voi e poi ragazze io non dormo da solo infatti io ero lì che aspettavo cioè lì che avevo intuito siete le donne di casa eh sì e quindi dice io non dormo da solo voi siete le donne di casa quindi stasera una di voi dormirà con me vedetevela voi ok allora qui compaiono due versioni diverse nel senso che Carol racconta una versione ma verrà intervistata è stata anche Vicky sua sorella che ne racconterà un'altra allora in realtà Vicky conferma che questa cosa atroce è vera cioè il padre dopo poche ore dalla morte della madre ha detto stasera mi scopo una di voi questo è vero però Vicky dice che hanno fatto hanno tipo giocato a carta forbice sasso una roba del genere e aveva perso Vicky e quindi Vicky quella di 11 anni era dovuta andare a letto col padre Carol invece dice che il padre aveva selezionato lei per prima forse queste sono robe dovute alla sua autostima bassa autostima malata in più sì sì potrebbe essere ma in realtà potrebbe essere un ricordo falso in entrambe cioè nel senso che è possibile che magari Vicky si ricorda una cosa e ha collegato che ne so a sasso carta forbice con con quell'avvenimento lì che penso sia abbastanza traumatico è direi di sì direi di sì è con e Carol la stessa cosa magari non è nessuna cioè nel senso magari è proprio il padre che ha scelto Vicky perché comunque era la figlia vera ed era quella più carina certo no vabbè allora non sappiamo con certezza quale delle due abbia subito questo stupro quella notte ma sta di fatto che poi il padre le alternerà allegramente quindi comunque se la beccano tutte e due nel 58 otto mesi dopo la morte della madre Charles si risposa meno male e effettivamente smette di abusare delle figlie perché adesso c'è un'altra donna di casa ce l'ho ragione così donna di casa lavare pulire e scopare giusto non a terra anche a terra anche anche vabbè comunque smette di abusare sessualmente delle figlie ma continua allegramente con gli abusi verbali e anche fisici vabbè chiaramente alza anche le mani però soprattutto verbali soprattutto nei confronti di Carol che si sente dire tutti i giorni di essere brutta di essere cicciona che già lo pensava da sola Carol quindi non c'è bisogno che glielo vai pure a dire in continuazione perché già ci sta male sta ragazza non continuare eh sì ma lui non era quello che diceva anche picchiare un po' meno sì cioè ti rendi conto sì 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 lui era quello buono lui era quello buono dei due ma lui allora perché finché c'era Gladys lui ce l'aveva al posto dove svuotarsi i coglioni poi dopo ma io non lo so io ste storie dico ma saranno inventate però le conferma pure la sorella cioè comunque parliamo così spesso di queste storie che succedono per forza eh sì mamma mia vabbè comunque un giorno Carol torna a casa e trova il gatto morto non l'avevo detto fino adesso ma avevano un gatto non era importante finora ai fini della storia trova il gatto morto ma non è morto di età di anzianità è morto perché ha un colpo di proiettile cosa è successo? suo padre Charles quel giorno aveva deciso di stermirare tutta la famiglia sveglia cosa faccio oggi? piove non posso uscire sterminiamo la famiglia ma certo e iniziando dal gatto giustamente sterminiamo la famiglia inizio dal gatto poi però non ho capito bene ma si è sparato via il pollice da solo perché non ho capito se stava cercando di sparare la moglie in quel momento oppure ha detto ma adesso che ho fatto fuori il gatto passo direttamente a me fa niente gli altri non lo so sta il fatto che si spara via un pollice e poi dice vabbè basta per oggi ho fatto sì ma anche perché sparandosi via il pollice poi non riusciva più a tirare indietro il cane dalla pistola ma io penso che si è sparato al pollice dell'altra mano di quella non dominante sì sì eh no beh certo sì Marco guarda secondo me non dobbiamo cercare logica in questa storia perché non ne usciamo mai più se ci proviamo comunque quella sera Charles dopo aver ammazzato il gatto essersi fatto saltare un pollice prende da parte Carol per tranquillizzarla quindi dice Carol stai tranquilla io oggi volevo solamente ammazzare tutti compresa te va bene a questo punto qualcuno della famiglia avvisa le autorità non si sa chi la mia teoria è Vicky sì è possibile perché era quella che sembra meno fuori di testa perché la moglie rifiuta di sporgere denuncia quindi dice no no ma a posto così cioè alla fine ha ucciso solo il gatto quindi compriamo un altro gatto che problema c'è eh ma infatti ma perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il gatto quindi no cioè quindi io io resto anche scioccata del fatto che lui comunque abbia trovato una donna che non solo se l'ha sposata sta persona ma poi non lo denuncia neanche continuiamo tranquillamente a vivere insieme dopo che hai cercato di ammazzarmi comunque allora io per sicurezza avrei comprato un altro gatto così metti che domani mattina cioè che metti che un altro giorno si sveglia che vuole esterminare tutti eccetera tanto comincia dal gatto poi si calma sì effettivamente comunque in questa tragedia una cosa positiva una parola grossa una cosa non negativa succede nel senso che carole Vicky vengono messe in una casa famiglia cioè comunque viene chiamata la polizia cioè qualcosa succede perché vengono avvertite le autorità quindi anche se poi la madre non ha voluto sporgere denuncia questo comunque ha sterminato il gatto e tutto quindi i servizi sociali entrano in gioco portano via le due bambine le mettono momentaneamente in una casa famiglia e poi le mandano dalla nonna che si trova in Michigan quindi ora noi tutti pensiamo beh adesso tiriamo un bel sospiro di sollievo allora nel senso che non sappiamo cosa facesse di strano la nonna magari niente però Carol la odiava a morte cioè con tutte le persone assurde con cui ha vissuto Carol nella sua breve vita la nonna è quella che odia di più boh non sappiamo i dettagli comunque dopo una convivenza infernale anche se non sappiamo se infernale per colpa della nonna o per colpa di Carol che comunque non sarà cresciuta proprio tranquilla in questo ambiente no? eh infatti non sarà cresciuta centrata e disponibile verso i parenti esatto comunque la nonna sbologna le due bambine ad un non meglio precisato zio che vive in Indiana ok quindi cioè continuano a spostarsi infatti dopo tutti questi trasferimenti Carol ma anche Vicky alla fine fa fatica a fare amicizie no? perché già parti con un'autostima distrutta poi continui a cambiare posto dove vivi e in più Carol appunto ha questa sua scarsa avvenenza si sente brutta scopre però Carol di avere comunque un'arma potente per attirare i ragazzi Marco qual è? eh boh la figa la figa bravo è giusto è giusto è giusto allora perché lei appunto si riteneva brutta e grassa però inizia a capire che forse si può vestire in modo per valorizzarsi perché lei comunque gli era venuto anche un seno molto florido e quindi lei inizia a vestirsi in modo da mostrare la sua parte forte spera lei pensava così almeno non mi guardano in faccia e lei si mostra da subito molto disponibile inizia inizia ad attirare un po' di curiosità dai ragazzini alle superiori ma scopre di fare un effetto molto più conturbante sugli uomini più grandi e con uomini più grandi intendo i vecchietti al bar sì che poi non vogliono parlare di questa storia e non capisco perché infatti perché non vogliono incriminarsi perché appunto Keral ha visto che la demografica che rispondeva meglio a quello che l'aveva da offrire erano gli anziani che andavano a bere al bar e quindi lei inizia a rimorchiare lì tutto questo ha tipo 16 anni vabbè giusto tutto bene tutto bene comunque ad un certo punto Charles il padre si presenta in indiana e dice bambine no vabbè ormai ragazze venite via con me e loro vanno via col padre quindi ritornano con il padre dici ma cazzo eravate riuscite a fuggire quindi lei riporta dove stava vivendo lui e Keral ricomincia a rimorchiare i vecchi al bar e poi continua sempre con i ragazzini a scuola e presto si fa una reputazione anche a scuola lei diventa quella che te la dà e quindi tutti i ragazzi iniziano ad andare da lei e solamente che poi dopo la deridono e la prendono in giro che a me sta cosa mi fa incazzare perché allora se una è così gentile che pure te la dà tu devi dire grazie fine cioè non la devi sfotti cioè ma tu la sfotti perché dici guarda quella è talmente sfigata che ha scopato con me eh sì sì penso esatto quella lì che me l'ha data anche a me penso un po' come messa lei no ho capito però cioè è anche vero che quella ragazza che te la dà ha anche un potere su di te quindi il fatto poi di sfottela di prendela in giro è sminuire oltre a lei il potere che ha lei su di te rispetto anche agli altri ragazzi cioè nel senso è una cosa psicologica no del fatto perché comunque per quanto cioè ti è piaciuto andarci eh sì perché sti ragazzi facevano la fila per andare con lei per poi sfottarla pubblicamente eh ho capito quindi perché appunto lei ha il potere su sti ragazzini qui quindi loro sminue cioè nel senso sfottendola dandole della troia della puttana di qualche la sminuiscono ma in realtà sminuiscono il potere che effettivamente ha lei su di loro eh sì allora ragazzi dovete lavorare sulla vostra autostima eh sì invece di starli a criticare le ragazze comunque poi vabbè contestualizziamo anche il periodo comunque a questo punto sono gli anni 60 quindi era anche un pochino più difficile magari entrare in intimità con le ragazze di quell'età lì perché tante negli Stati Uniti comunque aspettavano ancora il matrimonio o almeno aspettavano la storia seria quindi era difficile trovare sesso easy no sì 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 o almeno aspettavano quello un po' più carino di te nel senso di e quindi perché lei si fa cioè Carol comunque si faceva tutti i roiti Carol non ha mai detto di no e beh ma perché lei usava il sesso per farsi accettare ma certo come ad esempio faceva anche l'invornos no cioè dove non ma certo quindi buttava avanti il sesso per essere accettata solo che poi era ovviamente un'arma controproducente tutto il cioè nel senso purtroppo il cane è che si morde la coda tu fai una roba per essere accettata ma quella roba lì ti emargina ancora di più però tu non sai cominciare a questo lupe continui con sta cosa qui eh sì eh sì comunque mentre succedono queste cose in casa Charles diventa sempre più violento Carol inizia a temere che lui possa rifare la strage e quindi dice ok io forse me ne devo andare da qua forse e quindi a 17 anni Carol per andare via di casa si sposa si sposa con Leonard che è un uomo di 56 anni lei ne ha 17 eh ho capito però quando c'è l'amore l'età non conta sì tra l'altro poi io la dico sta cosa negli anni 60 un uomo di 56 anni era un vecchio non è come adesso no esatto sì cioè vabbè comunque questo simpatico Leonard tu dici vabbè dai però almeno almeno ha trovato qualcuno che tiene a lei no perché Leonard inizia a farle da pappone quindi c'è tanto tu scopi con tutti quindi mi faccio pagare io cioè non tu io quindi tutto bene allora Carol dopo un po' si rende conto effettivamente di essere passata dalla padella alla braccia no e quindi cerca di organizzarsi per andarsene inizia a mettere da parte i soldi inizia a cercarsi un lavoro e inizia a guardarsi in giro a vedere se trova degli uomini migliori e si innamora di un certo Richard detto ovviamente Dick allora Dick fa molto ridere adesso perché vuol dire pisello però negli anni 60 era il soprannome standard perché si chiamava Richard sì sì ma anche Nixon era Dick Nixon eh sì sì Richard si diceva Dick una volta adesso non si usa più quel diminutivo però lui è particolarmente giusto chiamarlo Dick perché lui è uno scrittore di racconti erotici questo è il suo lavoro tra l'altro di successo pubblicato perché ai tempi c'erano le riviste adesso quel lavoro lì non c'è non c'è più tanto ok invece lui riusciva comunque a guadagnare molto bene era messo bene Richard perché lui scriveva questi racconti pornografici proprio per le riviste con le donnine nude di lavoro e poi era anche autore di alcune fan fiction sci-fi quindi cose di science fiction lui ha 32 anni quindi molto meglio rispetto a quello di prima però lei ce ne ha sempre 17 quindi sì sì lui si è un giovincello sì beh allora di tutti quelli che ha trovato fino adesso Carol questo lo devo dire Dick è il migliore e ti dirò è il migliore pure di quelli futuri quindi questo è il meglio che Carol riesce a fare e dopo poco si trasferisce da lui quindi il suo scopo era andarsene via dal suo ex marito allora Richard in realtà si mette a stimolarla perché vede che questa ragazza non ha interessi e quindi la incita a mettersi a scrivere la mia teoria era che Carol gli spaccava troppi coglioni quindi lui ha detto trovati qualcosa da fare che non mi parli per un po' scrivi questa è la mia teoria però sì però magari era una persona anche vagamente decente nel cioè nel senso quindi magari diceva ma perché non non ti valorizzi cioè nel senso non valorizzi comunque te come persona oltre che cioè magari come donna sei brutta a vedere poverina no scherzo però magari veramente tentava di farla crescere a livello umano ma secondo me un po' sì poi vabbè gli ha detto scrivi semplicemente perché lui aveva tutti i contatti con gli editori e quindi riusciva magari a farle pubblicare qualcosa e attenzione Carol allora Carol Nitz inizialmente diceva bene scriverò il grande romanzo americano e poi si blocca la dodicesima pagina al che Richard dice no in effetti guarda per il grande romanzo americano servirebbe qualche centinaio di pagine però ha un'idea geniale perché non scrivi racconti prova a scrivere un racconto lei scrive un racconto che viene pubblicato da una rivista quindi comunque Richard l'aiuta e lei scrive una roba decente perché comunque se riesce a farsi pubblicare è vero che era molto più facile ai tempi farsi pubblicare perché c'erano tantissime di queste riviste indipendenti facevano le veci di internet insomma sì 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 ma anche Stephen King ha cominciato così scrivendo racconti sci-fi per le riviste eccetera e ogni tanto lo pubblicavano tante volte no però tante volte sì eh sì ma questo qui che viene pubblicato di Carol non è sci-fi perché è un racconto su una poliziotta che va a lavoro in autobus e questo è tutto il racconto questo è tutto quello che ho trovato non ho trovato il racconto intero da leggere comunque poi a un certo punto dice va bene dai allora adesso mi metto a pubblicare io una fanzine che erano queste riviste autopubblicate che andavano di brutto in quegli anni lei si mette lì scrive tutto prepara il primo numero lo pubblica poi basta e beh allora ai tempi le fanzine che tra l'altro sono cioè fanzine sarebbe fan magazine sì nel senso quindi le riviste pubblicate appunto indipendentemente dalle persone c'erano anche in Italia negli anni 80 così era un casino cioè nel senso costava costava farlo non era così semplice infatti anche noi io mi ricordo negli anni 90 che avevamo provato a fare una fanzine ma siamo durati tipo anche noi mezzo numero non siamo arrivati neanche a pubblicarla perché era una fatica tremenda farla tutta ah ok vabbè quindi Carol come Marco molla il colpo sì e arriviamo al 62 nel 1962 appunto Carol è da Dick e viene a sapere che suo padre Charles si è impiccato e noi qui diremo vabbè era ora onestamente con questa pietà umana però questo era uno che faceva danni insomma sì sì Carol invece non reagisce così Carol si dispera Carol ci resta malissimo e addirittura si sente in colpa cioè pensa che sia anche colpa sua se suo padre si è impiccato comunque a questo punto lei e Richard si trasferiscono in Oregon sì ragazzi qua è difficile star dietro a tutti i giri che fanno chi se ne frega comunque si trasferiscono e mentre abitano in Oregon Richard fa una scoperta scopre che Carol oltre a stare lì a scrivere si prostituisce di nascosto da lui e lui si incazza tantissimo perché scopre che lei si fa pagare poco che però ci sta già comunque ragazza mia un po' di autostima in più lei si faceva pagare pochissimo addirittura c'era un vecchio un signore che le dava un libro ogni volta usato la porca miseria cioè capiamo che è veramente poco eh sì e allora iniziano a litigare un po' lei e Richard per questa cosa un po' si lasciano ma continuano a vivere insieme comunque Carol è molto ci è rimasta molto male che Richard gli ha detto fatti pagare di più non ha senso questa storia e allora per consolarsi si mette con una donna di cui non ho informazioni continuando però a vivere da Richard è tutto molto strano quando questa donna la molla si mette con un uomo quando quest'uomo la molla si mette con una donna e lei manterrà questa alternanza per tutta la vita questa alternanza di amanti di solito perché poi le storie serie ce le aveva ce le avrà sempre con uomini però le amanti faceva una volta una donna una volta un uomo boh vabbè comunque nel 65 si trasferiscono in California a Santa Monica perché in tutto questo loro continuano a stare più o meno insieme e qui Carol dice a Richard guarda a me ha fatto piacere che tu hai cercato di farmi scrivere tutto però io vorrei fare l'infermiera e allora Richard dice facciamo così io ti pago la scuola ma tu devi promettere di portarmi dei buoni voti ok sì allora allora è molto paternalistica come cosa però d'altro canto sta pagando lui quindi ci sta anche il discorso di io pago la scuola ma non è che tu la molli certo sì vabbè e mentre sì dimmi no 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 stavo stavo ragionando prima sul fatto che continuano cioè che gli americani hanno sta pulsione nel trasferirsi mamma mia cioè oggi cosa facciamo e boh andiamo in Oregon va bene e partono no e poi sta cosa qua che boh cioè nel senso sì lui in modo paternalistico ti pago la scuola però mi porti i buoni voti cioè nel senso cioè perché cioè perché c'è tutto questo e non lo so no non lo so perché lui è molto più grande di Carol non lo so a me a Dick fa pena è possibile è possibile cioè anche quando lui scopre che lei lo tradisce cioè lui si incazza perché lei si fa pagare poco cioè che lo tradisce che si prostituisce cioè si incazza per le cose sbagliate e invece secondo me ha un suo merito del tipo non ti puoi abbassare a farti pagare così poco devi lavorare sulla tua autostima 20 dollari li puoi chiedere secondo me era più sì ma è piuttosto che i libri guarda non lo so non lo so comunque Carol accetta inizia ad andare a questa scuola da infermiera e lì conosce attenzione Grant Bundy quindi sappiamo già come va a finire sta cosa ok Greg Bundy colpo di fulmine e Greg sembra scusa Grant adesso lo chiamerò Greg tutto il tempo ma si chiama Grant con la T ok Grant sembra sembra ricambiare l'interesse di Carol e i due iniziano a frequentarsi in tutto questo c'è Dick che continua a pagare la scuola secondo me l'ha tipo adottata più che più che starci insieme comunque nel 68 che ero l'attenzione si diploma prima della classe sai che lì c'è il valedictorian che è il primo della classe si 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 diploma prima della classe quindi abbiamo sfruttuto Richard ma forse è stato utile questa cosa portami buoni voti cazzo gliel'ha portati sì sì o magari lei ha trovato la sua vocazione eh sì però in effetti lei poi farà sempre l'infermiera quando lavorerà non cambierà ulteriormente lavoro a lei piace e appena diplomata dato che si diploma prima nella classe riceve subito delle offerte di lavoro e viene assunta al motion picture and television hospital sì ok cioè l'ospedale dei cinema e delle televisioni mi sembra un posto dove le riparo tutte le riparano in televisio invece era l'ospedale che facevano vedere negli show televisivi nei telefilm quindi in realtà torna a fare la comparsa esatto infatti andavano lì malati finti per sceneggiatura sì vabbè comunque ricordiamoci che questa storia si svolge appunto a Hollywood e adesso ha preso casa Santa Monica che comunque è lì a Los Angeles non è lontano quindi è tutto in quell'ambito lì comunque il rapporto con Grant Bundy prosegue si fa serio e finalmente Carol prende la decisione di lasciare Dick e quindi nel 1970 Carol e Grant si sposano e quindi Carol diventa Carol Bundy oh a questo punto nasce un figlio ma dopo questo lieto evento Grant inizia a diventare violento con Carol dice ma cazzo ma io te l'ho detto che Dick era il top nessuno lo supererà comunque nonostante questo nel 71 nasce il secondo figlio che si chiama David il primo si chiamava Chris poi vabbè in realtà non conteranno molto i nomi di questi due poveri bambini comunque a quel punto Carol dice due figli li ho fatti mi faccio chiudere le tube ma giustamente e lei si fa chiudere le tube io immagino che fosse perché Grant non volesse usare contraccettivi perché se vedi li ha fatti uno dopo l'altro i figli proprio pam pam comunque come vi ho detto Grant diventa violento con lei ad un certo punto inizia a diventare violento anche con i bambini e a questo punto Carol non ci sta anche perché le violenze iniziano a diventare abbastanza pesanti ad esempio un giorno Chris che era il bambino più grande lascia in giro le Hot Wheels che c'erano già evidentemente e Grant lo picchia con la pista delle macchinine ma proprio gli fa malissimo lo fa sanguinare che era quello che succedeva a Carol per mano di sua madre certo ok quindi a quel punto Carol lascia Grant però poi si fa convincere a tornare insieme allora si rimettono insieme lei dice però i bambini non li devi toccare dopo un po' lui alza le mani sui bambini e lei lo lascia di nuovo però poi ci ritorna quando lui alza le mani sui bambini lei lo lascia questo tiro in molla andrà avanti per un bel po' comunque come al solito nei momenti in cui lei non è con Grant per consolarsi esce con una donna questa donna di cui non abbiamo il nome inizia a chiederle regali sempre più costosi e Carol le regala tutto quello che vuole nonostante non avesse i soldi per sfamare i figli e quando finisce i soldi scompare anche questa donna come se non bastasse tutto questo nel 78 a Carol viene diagnosticata una retinopatia e perde quasi del tutto la vista e perde anche il lavoro perché se un'infermiera non ci vede è un problema è perché misera se andare a fare i prelievi o mettere le flebo o anche il cattetere esatto esatto quindi lei perde anche il lavoro quando quando perde il lavoro era uno di quei periodi dove era tornata da Grant e Grant si incazza bestia perché ha perso il lavoro e perché è diventata cieca cioè colpa sua in sostanza nel 79 Grant pesta cresa sangue ancora peggio dell'altra volta e quindi questa volta Carol lo lascia definitivamente prende i figli e va a stare in un rifugio per donne maltrattate che è gestito da suore queste suore si organizzano per trovare una sistemazione e le trovano un appartamento in un condominio amministrato da una coppia questa coppia è composta da Janet e Jack Murray Jack Murray è un personaggio fondamentale in questa storia appena Carol lo vede si innamora pure se non vede tra l'altro perché in questo momento lei è cieca però appena avverte la sua presenza infatti appena non lo vede appena ci parla si innamora alla follia fate conto che Jack non è uno qualunque Jack è un australiano con la passione per la musica country quindi dall'Australia lui è venuto negli Stati Uniti per cantare country e lui fa tipo fa anche la cover band di Tom Jones che tra l'altro Tom Jones non è proprio country no non lo so magari i tempi sì io non sono proprio un fan di Tom Jones eh no neanch'io non vorrei dire una cagata ma secondo me lui aveva la band country e poi per guadagnare faceva la cover band di Tom Jones sì possibile ok e niente infatti Jack non è che sia bello però è molto anni 80 come uomo comunque è uno che sul palco secondo me le donne le donne venivano molto attratte da lui comunque era uno che piaceva le donne sua moglie Janet lo sa benissimo sua moglie Janet è una che dice sì è vero voi ce l'avete per una notte ma io ce l'ho per sempre questo era come ragionava Janet bene tutta gente equilibrata in questa storia qua no ma guarda questa storia è proprio un bijou comunque un giorno Carol chiede a Jack che dato lui amministra il condominio e quindi lei gli chiede ascolta non mi va più lo scarico del gabinetto anzi sei intasato il gabinetto mi puoi aiutare quindi lui va a casa sua e tira fuori dal cesso delle mutande perché lei aveva intasato il cesso di proposito con delle mutande per avere la scusa per farlo andare e allora poi le dice beh grazie che hai salvato la mia vita storandomi il gabinetto posso offrirti del vino e lui dice vabbè dai beviamoci sto bicchiere di vino e alla fine finiscono a letto anche se Jack non trovava Carol per nulla attraente però lui giustamente dice cioè giustamente come si ragionava non giustamente cioè nel senso come si ragionava una volta lui dice io sono un uomo non posso rifiutare è maleducazione e beh certo in tempo di carestia ogni buco è galleria è vero ma lui non la carestia guarda non ce l'aveva Jack no comunque vabbè allora diciamo Jack l'ho detto prima non è bello ma sicuramente è il più bello che Carol si bomba in vita sua questo sì comunque lei lui non è attratto da lei ci va a letto e dice cazzo questa a letto è una bomba quindi lui dice attenzione potrei iniziare a farlo al buio che bastardo no è un bastardo pazzesco e allora inizia a bombarsi questa Carol che a quanto pare a letto è veramente eccezionale lei è eccezionale a letto perché lei dice sia qualsiasi cosa e con la parola qualsiasi intendo qualsiasi ok e poi si impegna anche molto in qualsiasi cosa stia facendo allora a Jack alla fine lei fa anche un po' pena in tutto questo quindi un pochino l'aiuto cioè fanno amicizia l'aiuta a fare l'applicazione per la pensione di invalidità perché in tutto questo nessuno gliel'aveva detto a Carol che se non ci vedi puoi chiedere la pensione di invalidità sì io traduco per chi ci sta ascoltando l'applicazione sarebbe la richiesta di ah scusami è vero applicazione uno pensa all'iPhone no perché l'application in americano esatto l'application è tipo non so quando mandi il curriculum per farti assumere la cosa in realtà è la richiesta c'è ragione Marco vabbè ma questa è una mia caratteristica di inventarmi parole comunque lei fa questa richiesta per questa pensione di invalidità appunto per la sua quasi cecità perché lei è quasi cieca a questo punto anche perché ha il diabete io penso che siano forse collegate le cose non lo so se anche il diabete dà problemi agli occhi sì sì lei ha anche il diabete quindi sommando tutte le sfighe che c'ha sta donna le danno una pensione attenzione da 700 dollari a settimana a settimana è tanto è tantissimo perché a questo punto siamo negli anni anni 70 sì fine anni 70 però adesso non ho fatto la conversione a sto giro però allora basandoci su quello che abbiamo detto in altre puntate dovrebbe essere tipo 5 volte tanto 4 o 5 volte tanto quindi no sì 70 almeno 5 volte tanto quindi sono un 3.500 alla settimana alla settimana eh parche miseria boh io sono senza parole oltre a questo riceve anche una donna delle pulizie pagata dallo stato ma perché siamo in California eh California c'è un sistema molto diverso che negli altri stati e infatti si pagano molte più tasse in California che negli altri stati eh infatti comunque ora che ha tutti questi soldi grazie a Jack Jack le aumenta l'affitto però vabbè ti ho aiutato io ad avere i soldi me ne riprendo un po' quindi loro continuano con questo rapporto però Carol un pochino anche se lei è innamoratissima di questo Jack però inizia un po' a scocciarsi e glielo fa presente dice ascolta Jack a me va bene tutto perché è la mia caratteristica che mi va bene tutto però tu sei un po' troppo egoista letto eh beh certo cioè Jack è l'esatto contrario di Carol lei fa tutto Jack non fa niente e lui risponde in un modo che io riassumerei con in Australia la figa non la lecchiamo ok penso che sia la risposta ma gli ascoltatori australiani ci facciano sapere nei commenti se è vera questa cosa qui è un'invenzione di Jack esatto o era vera sono negli anni 70 poi in realtà adesso vabbia come un gelato non lo so fateci sapere fateci sapere anche perché comunque Jack a lei non fa niente lei invece accetta di sottoporsi a sedute di BDSM che a Jack piacevano quindi Bondage Sadomaso e anche cose anche un po' schifiche cioè pensate alle cose schifose che vi vengono in mente Carol le ha fatte tutte ok ma no ma anche no e io Marco vuoi che te le descrivo no lascia l'immaginazione no no io mi sono immaginato Carol che è costretta a mangiare tipo la pasta con la maionese è una delle cose più schifose che mi viene in mente poverina può darsi può darsi comunque lei fa presente questa cosa a Jack lui dice no niente e lei Carol continua comunque a stare attaccata al culo di Jack letteralmente tra l'altro e inizia a chiedergli di lasciare Janet ok lasciala lasciala e lui dice ma sì aspetta un attimo vediamo poi magari insomma le classiche cose sì sì comunque Carol per stare attaccata a Jack inizia a frequentare molto attivamente il Little Nashville che ovviamente è un locale country dove ovviamente Jack si esibiva tra l'altro prima l'ho detto lui faceva la cover band di Tom Jones però proprio lo chiamavano il Tom Jones dei poveri lo chiamavano australiano comunque comunque Carol inizia ad andare in quel locale talmente spesso che i proprietari del locale ma anche gli avventori gli avventori più regolari le danno un simpatico soprannome cioè Blind Little Bet piccolo pipistrello cieco sta povera donna o qualche rischio ma può vivere un secondo con qualcuno che le dia un pochino di rispetto magari no no ma tra l'altro oltre a chiamarla così pretendevano anche che lei stesse tutta la sera appesa a testi in giù nel locale perché se a lei glielo chiedevi lei lo faceva eh sì poverina eh allora poverina fino a questo punto sì perché adesso lei inizia a comportarsi in modo discutibile secondo me anche prima però non abbiamo gli elementi per dirlo comunque nel condominio no dove abita fa amicizia con una ragazza di cui non si sa esattamente il nome io ho trovato Teresa ma potrebbe essere uno pseudonimo questo perché la ragazza è minorenne ma non è solo minorenne ha proprio undici anni undici ah ok quindi è una bambina sì è una bambina fa amicizia con questa undicenne e gradualmente inizia a molestarla ok e perché giustamente no uno non si deve far mancare niente secondo secondo Carol quindi Carol finora vittima 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 adesso inizia a fare così tra l'altro poi la manipola proprio perché questa bambina io non so niente di lei non si sa niente di lei ma sono molto sicura che veniva da una famiglia disastrata che non la seguiva e tutto il resto probabilmente aveva già subito molestie dai familiari qualcosa del genere e quindi lei ha anche bisogno di avere qualcuno con cui relazionarsi e accoglie questa amicizia con Carol cioè agli occhi dell'undicenne loro sono amiche veramente ok però in realtà Carol ne sta abusando comunque siamo nel 79 a questo punto e Jack dice ascolta Carol va bene tutto però già sei inguardabile di tuo quando hai quegli occhiali lì veramente non ti si può vedere andiamo da un altro dottore a vedere se riescono a farti qualcosa per questi occhi lei va da quest'altro dottore e scopre che non è vero che aveva una retinopatia lei aveva solo le cataratte Marco sconvolta sì quindi viene operata per ste cataratte e ricomincia a vedere ragazzi miracolo cioè tutta stammenata perché un dottore non le aveva diagnosticato correttamente la cataratta cioè ma si può sì ma pure i dottori sono deficienti in sta storia non si salva nessuno nessuno no comunque sì però io fossi lei non lo direi a nessuno cioè ne si sono con 700 dollari la settimana di di Marco io non so come sia possibile ma lei veramente non lo dice a nessuno e continua a incassare i soldi eh perché eh perché lì magari la sanità è privata quindi non devi passare cioè nel senso allora un conto se tipo in Italia che lo Stato ti passa si 700 dollari e poi tu sempre attraverso lo Stato la sanità pubblica vai a farti operare quindi lo sanno no? esatto però in effetti però aspetta no cioè poi stavo dicendo una cazzata perché in effetti anche in Italia è farsi invalidi che dicono di essere ciechi e poi vanno in giro con Lamborghini ci sono cioè allora lei non è falsa invalida lei è ex invalida che si è dimenticata di dirlo vabbè ma qua adesso onestamente come biasimarla chi resisterebbe alla tentazione di far finta di niente no ma cioè adesso siamo onesti intellettualmente no no lei non è che è partita come una truffa sta cosa no 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 ok no no che poi tra l'altro appunto c'è nel senso la cataratta anche la retinopatia immagino che sia una cosa devastante perché quando comincia a non vederci cazzo è dura cioè soprattutto se per il tipo di retinopatia che le aveva diagnosticato il primo dottore non c'era soluzione no no invece la cataratta si è operata e è a posto sì sì ci è voluto un po' perché poi erano tempi diversi prima un occhio poi l'altro comunque quando finalmente ricomincia a vedere si guarda allo specchio e ci resta malissimo cioè del tipo che lei si guarda dice cazzo sapevo di essere brutta ma sono pure peggiorata in questi anni quindi poverina no boh vabbè comunque in tutto questo Janet la moglie di Jack inizia a sospettare di Carol allora è tanto che Jack se la bomba Janet è abituata che suo marito si scopa le tipe però lei è molto contraria alle relazioni continuative cioè se ti scopri una fan dopo un concerto va bene tranquillo però non ti devi fare le relazioni questo è quello che pensava la moglie inizia a vedere che suo marito sa troppo tempo con questa Carol e Carol poi è una che non non nasconde i suoi sentimenti cioè ma nel senso che tipo fa fa i gesti tipo mima leccare il cazzo cioè ma che sì ragazzi è una roba che non ha senso cioè lo saluta e fa vedere le tette cioè capito è una roba grave una roba grave comunque e quindi Janet inizia a sospettare cazzo ma vuoi vedere che mio marito si scopa sto roito e si arrabbia tantissimo perché lei è brutta è per questo che si arrabbia e allora lei va dal suo marito e dice ascolta ma adesso dimmi la verità ti stai scopando quella lui dice ma l'hai vista ma secondo te io mi scopo quella e quindi lei dice effettivamente e fa cadere tutti i dubbi allora Jack va da Carol e gli dice senti Carol ti devo dire una cosa d'ora in poi possiamo solo scopare in macchina comunque tutto questo a un certo punto a Carol arrivano 25 mila dollari tutti ad un colpo per la vendita della casa che divideva con Grant Grant Bundy il suo ex marito di cui lei tiene il cognome perché a lei piace tantissimo chiamarsi Carol Bundy sti soldi lei li spende subito alla fine Carol è piena di soldi cioè non si è capito come cazzo sia possibile ma questa donna è piena di soldi ma li spende li spende perché lei fa i regali a chiunque le chieda di farne un regalo e Jack lo riempie di regali sì eh vabbè ho capito ma anche quello lì in un altro modo per farsi accettare cioè è esattamente la stessa cosa del sesso io ti faccio il regalo così tu mi sei riconoscente e mi tratti da persona per quasi dieci minuti esattamente esattamente e Jack a sto punto riesce a spillarle ben diecimila dollari dicendo scolta Carol io voglio lasciare Janet a tutti i costi perché io voglio stare con te perché ti amo però lei ha il cancro io non la posso lasciare col cancro dobbiamo curarla prima quindi c'hai diecimila dollari ma certo Jack tieni e quindi lui dispilla dieci dollari diecimila diecimila magari fossero dieci dollari no no diecimila dollari a un certo punto arriva il fratello di Janet Warren che ha ventitré anni e allora per fare ingelosire Jack perché comunque Carol si è molto offesa che adesso possono scopare solo in macchina allora dice lo devo fare ingelosire così torna da me finalmente ovviamente lascia sua moglie che intanto si sta facendo le operazioni per guarire dal cancro quindi viene a trovarla suo fratello e Carol lo seduce non so come non so come lo seduce perché spera di fare ingelosire Jack quindi rende anche la cosa molto palese che lei si è scopata il fratello della moglie di Jack quindi Jack in tutta risposta prende Warren lo porta al pub gli offre da bere e gli dice scolta ti do un consiglio lascia perdere Carol perché è pazza quindi questa è la gelosia che ha riscosso comunque a un certo punto loro tra l'altro c'è Carol non solo fa i regali a Jack ma gli regala anche i viaggi a un certo punto Jack vuole andare a Las Vegas e Carol dice ma certo andiamo a Las Vegas paga tutto lei vanno a Las Vegas insieme cenano insieme e poi Jack va in giro da solo la lascia in hotel da sola cioè vabbè quando tornano da sto viaggio Carol lascia qualcosa nella macchina di Jack ho letto la valigia intera mi sembra strano però qualcosa comunque col suo nome quindi la valigia avrebbe senso perché è la targhetta Janet lo trova e va a bussare da Carol a dire ma allora è vero che ti fai mio marito e Carol dice ah scusa mi dispiace ma come va col cancro e lei dice ma quale cancro ma tu sei una rincoglionita ti rubati i soldi a questo punto anche Carol si arrabbia perché ora va bene che è zerbino forever però c'è un limite a tutto quindi lei confronta Jack e Jack dice ascolta cosa vuoi dovevo comprarmi un furgone nuovo comunque dato che Carol minaccia di denunciarlo Jack non interrompe comunque la relazione con Carol nonostante abbia appena promesso a sua moglie di lasciarla ok è tutto scusate ragazzi ma sarà un po' confusionaria perché è tutto un prendi lasci prendi lasci questo quello quell'altro vabbè comunque in tutto questo Jack continua a tenere il piede in due scarpe quindi lui promette a Carol di lasciare Janet promette a Janet di lasciare Carol ma non fa nessuna di due cose a Natale Carol si presenta a casa di Jack che non è a casa tra l'altro è Natale non è a casa allora trova Janet e le offre 1500 dollari per lasciare suo marito lo compra lo compra non lo posso avere lo compro ai che Janet dice va bene dammi sti soldi e poi non lascia suo marito ma strano che però è la cosa giusta da fare se qualcuno mi offre dei soldi per lasciare il mio ragazzo dico sì dammeli poi faccio finta di niente tanto cosa fai mi denunci io dico ma secondo voi uno veramente mi ha fatto un'offerta del genere no comunque mica firmi il contratto vabbè fai niente no no certo certo sì no no sì vabbè ma è assurda anche la cosa il fatto che Carol vada da Janet a offrire 1500 dollari per lasciare è tutto ridicolo è tutto ridicolo comunque quella sera quindi ragazzi la notte di Natale e io mi chiedo dove cazzo sono i figli di Carol perché in teoria lei sta vivendo con i suoi figli in questo momento poi poi verranno mandati da un'altra parte ma in questo momento lei sta vivendo con i suoi figli sì e lei è in giro boh è in giro a offrire alle donne soldi per comprargli i mariti a Natale vabbè saranno dai parenti io mi auguro non lo so comunque lei la notte di Natale va a Little Nashville per vedere il suo Jack convinta che ormai sua moglie lo lascerà per la cifra di 1500 dollari e quella sera Carol incontra Doug Clark siamo finalmente arrivati a lui però ve l'ho detto la protagonista della storia resta Carol però vi devo un attimo dire anche chi è questo Doug Clark Douglas Daniel Clark nasce in Pennsylvania il 10 marzo 1948 terzo di quattro figli tra l'altro se avete una memoria incredibile e fate matematica velocemente avrete notato che Doug ha sei anni meno di Carol infatti lo stavo dicendo io perché lei del 42 bravo Marco grazie lui è il terzo di quattro figli ok suo padre è i piani alti della marina militare non vi so dire esattamente cosa facesse vi so dire che erano molto 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 benestanti ma per via del lavoro del padre dovevano continuare a trasferirsi anche loro infatti loro vivranno in giro per gli Stati Uniti ma vivranno per molto tempo anche in India in India tra l'altro vivranno in un palazzo col maggiordomo quindi è una roba al Bruce Califa no 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 perché non è in India esatto volevo dire un altro ah tu volevi dire al Taj Mahal al Taj Mahal sì no non vivono lì però insomma quindi grandi lussi e anche in giro per l'Europa quando Doug lo chiamerò sempre Doug lui si chiama Douglas si fa chiamare Doug quando Doug deve andare alle superiori la famiglia decide di scriverlo in un prestigioso collegio a Ginevra in Svizzera allora Doug non ci sta tanto bene questo collegio perché è soggetto a continui provvedimenti disciplinari ok questo per via dell'ubriachezza perché lui beveva anche a scuola quindi partiamo bene e poi perché faceva cose strane tipo mostrare foto di lui che fa sesso con delle ragazze perché lui era uno che con i suoi compagni di scuola amava fare lo sborone raccontare mi sono scopato quella mi sono scopato quell'altra e i compagni dicevano ma va ma chi ti scopa te e allora lui inizia a portare prove fotografiche e audio perché inizia a mettere un registratore audio sotto al letto per registrare l'audio di quando si scopa le tipe da ragazzino questo capito quindi saranno tipo gli anni 60 sono gli anni 60 sì i registratori audio infatti erano tipo delle valigie infatti erano giganteschi e dovevi stare lì con il microfonone infatti li metteva sotto al letto perché se no si nota cioè non è un registratorino infatti sì sì quindi lui faceva tutte queste cose non so esattamente per quale di queste cose però a un certo punto viene espulso allora il padre molto molto deluso da lui lo mette in un altro collegio però stavolta in indiana negli Stati Uniti quindi niente più Europa per te e lui in questa tra l'altro lo mette in una scuola militare attenzione in una scuola militare degli Stati Uniti e Doug però si trova bene perché scopre di amare la musica lui entra nella banda e si mette a suonare il sax ok quindi è una storia piena di musicisti alla fine è dal sax al sex dal sex al sax esatto allora Doug è da tutti considerato un bel ragazzo se vedi le foto dici vabbè ma questo è discretamente cesso quindi perché però se lo guardiamo bene ha quel tipo di faccia che negli anni 70-80 era considerato bello ci hai fatto caso quella bellezza che è passata di moda allora io non l'ho guardato bene vabbè c'è la sua classica la classica foto di lui che tra l'altro ha delle occhiaie ma forse ha tipo gli occhi neri non si capisce quella foto lì che tu lo guardi dici a me sembra bruttino però ha lineamenti regolari e ha quel tipo di faccia che secondo me negli anni 70 dicevano che figo ah ok allora sì sì ho capito ma boh io dalle foto a me sembrava abbastanza anonimo nel senso che cioè non è una di quelle facce che proprio dici boh me la ricordo sta di fatto che rimorchiava di brutto anche per via dell'aspetto estetico quindi comunque era considerato un bel ragazzo magari da giovane era anche più più bellino insomma e sin da subito lui capisce questa cosa lui capisce di piacere alle donne e impara a manipolarle e trae molta soddisfazione dal manipolare le donne e scopre che le donne più facilmente manipolabili di questo secondo Doug non mettetevi in bocca parole che non ho detto secondo Doug erano le donne un po' più grandi un po' sovrappeso un po' bruttine e sole e vabbè quindi lui invece di puntare alle ragazze più belle lui punta sempre alla più bruttina della cumpa eh sì sì Doug non è che fosse proprio un grandissimo psicologo cioè nel senso è proprio è la base cioè purtroppo eh sì poi vabbè con le donne un po' più belle lui magari ci andava una notte via infatti lui ci tiene a sottolineare a tutti che il suo soprannome è il re delle storie di una notte soprannome che si è dato da solo quindi non vale però sì sì infatti però vabbè però quelle con cui si faceva delle storie lui puntava proprio intenzionalmente a quelle un po' più bruttine poi lui per conquistarle faceva il raffinato l'intellettuale quindi si metteva a parlare in francese che con le americane funziona tantissimo sta cagata qua cioè ancora adesso funziona non so perché eh ma anche l'italiano ma ascolta secondo te un'americana sa anche altre lingue no basta che fai un po' di gibberish allora wow certo certo no vabbè c'è questa roba del francese che piace e poi si mette a citare Shakespeare ogni tre per due che anche qua abbiamo controllato che lui citasse veramente Shakespeare o diceva cose a caso non lo so non lo so sta di fatto sì no che tra l'altro lui si dà il soprannome da solo del re di cos'è di il re per una notte no il re di una botte via perché sarebbe the king of one night stands sì ok sì il re di una notte via questo è il soprannome che si dà da solo gli altri l'avevano soprannominato il re del mi son fatto di peggio è vero è vero comunque non so perché ma da adulto la famiglia di Doug non gli passa più niente quindi lui è una famiglia molto ricca però si ritrova proprio col culo a terra ok si ritrova senza soldi da adulto e allora lui inizia a sedurre le donne anche per avere proprio un posto dove dormire quindi lui si mette con quelle che lo fanno trasferire a casa sua in sostanza cioè è così e poi ovviamente cerca tutti i modi di spillare più soldi possibili una di queste donne che cade nella sua rete si chiama Beverly ad un certo punto questa Beverly se lo sposa pure Doug ma dopo quattro anni lo lascerà perché diceva che stare con lui era insostenibile questo perché Doug è una persona estremamente infedele scopava in continuazione ma senza neanche nasconderglielo poi quindi lei dice cazzo almeno almeno fai finta di tenermelo nascosto fai finta di rispettarmi rispettami quel minimo da tenermelo nascosto cioè non da non farmelo no esatto no no ma perché anche anche a Beverly lui faceva vedere le foto di lui che scoppava con altre guarda che può darsi sì può darsi e poi comunque anche con Beverly ad un certo punto si stufa di far sesso con Beverly e lo fa solo se può fare BDSM hardcore quindi un tipo di sesso molto violento cose così e soprattutto lui vorrebbe fare sesso di gruppo insieme a Beverly quindi tirare in mezzo altra gente e lei non ci sta quindi dopo quattro anni lo lascia e divorzano a questo punto Doug ogni tanto si trova qualche lavoro lui notoriamente si sa lavorerà in una fabbrica di sapone però prima di lavorare in questa fabbrica di sapone faceva l'operaio in fabbrica ma veniva sempre licenziato dopo poco perché lui aveva sto vizio di presentarsi al lavoro ubriaco o di non presentarsi proprio quindi secondo me abbiamo abbastanza inquadrato la tipologia di persona a questo punto con tendenze psicopatiche esatto perché da un lato abbiamo la nostra Carol che nella vita ne ha passate di ogni quindi poi se è venuta fuori come è venuta fuori ci sono anche dei motivi poi abbiamo Doug che invece testa di cazzo c'ha nato sì sì ok comunque no vabbè poi l'abbiamo visto con tanti serial killer così anche la cosa di continuare a trasferirsi da piccoli può avere delle conseguenze con questo non stiamo dicendo che tutti quelli che si trasferiscono da piccoli poi ammazzano la gente ovviamente però se già hai tendenze psicopatiche magari questa cosa nell'infanzia non aiuta eh sì perché non ti non ti dà l'idea di stabilità non ti dà non ti fa mettere radici ti dà problemi di relazione con gli altri perché magari cioè da piccolo ti affezioni i tuoi compagni di classe poi devi spostarti poi devi riuscire a conquistarli di nuovo cioè nel senso conquistare quelli nuovi è un problema poi cioè anche la gente che si trasferisce magari anche i genitori sono anche un po' meno presenti no perché i genitori di Doug erano poco presenti questo sicuramente sì ma anche i genitori che si trasferiscono spesso magari sono appunto anche meno presenti dico in generale per gli altri eccetera perché devono pensare a ricostruire no la casa la famiglia eccetera quindi magari danno meno attenzione ai bambini che rimangono più da soli sì il trasferimento è un trauma già anche per gli adulti per i bambini poi tra l'altro se è continuo ti ti può può generare anche una specie di alienazione rispetto al mondo eh sì e agli altri eh sì comunque appunto abbiamo capito che tipo di persona è Doug e quindi quando la sera di Natale del 1979 Doug è a Little Nashville e vede Carol capisce subito che quella è la vittima perfetta quindi quella quella sera Doug ci prova un po' con Carol che forse per fare ingelosire Jack che che non ho capito se quella sera ci fosse anche Jack a Little Nashville perché ormai Carol andava a prescindere a Little Nashville sì 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 comunque Doug ci prova con lei lei ci sta anche perché vede Doug dice mio Dio ma che uomo bellissimo eh che per gli standard di Carol era sicuramente bello Doug ecco diciamola così magari non è bello in generale però per gli standard di Carol era veramente molto bello a livello di bellezza lui e Jack se la giocano secondo me è meglio Jack però è magari più affascinante sì poi è anche il primo uomo che lei vede senza cattaratta quindi sì ma poi la cosa incredibile è che è sempre stata Carol che ci prova con gli uomini e ci prova anche in modi molto volgari per farti capire che lei te la dà ed era per questo che ce la faceva invece qui c'è un uomo che si avvicina a lei e che ci prova con lei quindi wow quindi stanno insieme tutta la notte di Natale Doug la raccompagna a casa lei ovviamente gli chiede di salire lui rifiuta oh che è una tecnica porca miseria è un genio questo Doug non dì che scemo poi fa però facciamo così vengo a cena da te tra qualche giorno e lei diceva bene e quindi un paio di giorni dopo Doug la va a trovare va a cena da lei e lei gli fa trovare la cena e cenano tutti insieme anche con i due figli ah ok questi due figli che ci siamo dimenticati erano lì e quindi boh i figli partecipi del primo appuntamento della madre però vabbè penso che questi poveri bambini abbiano già visto di tutto nella loro vita quindi è anche il meno questo è anche il meno infatti i due bambini da subito adorano Doug perché Doug è simpatico insomma chissà che razza di uomini si vedevano arrivare a casa sti bambini quindi Doug si presenta in un certo modo i bambini lo adorano sì sì boh magari era anche l'unico che non li picchiava sì vabbè l'hanno visto una volta adesso io spero che anche gli altri non è che ciao bambini pam giù un attimo comunque quella sera lì lui invece resta a dormire mettono a letto i bambini tra l'altro li mette a letto Doug gli racconta le storielle quindi si fa vedere anche come compagno perfetto e poi vanno in camera lui e Carol Doug si spoglia e poi dice a Carol guarda ti devo chiedere scusa io lo so che ce l'ho piccolo però compenso in altri modi e finalmente ragazzi Carol si beccherà una bella leccata oh finalmente e questa è la fine della nostra storia no no eh sì ci piacciono le storie alietto fine ci piacciono i piani ben riusciti esatto allora fino a qua dici ma guarda come si presenta bene Doug poi quando se ne va la mattina dopo lui guarda Carol e dice ascolta posso avere un paio di mutandine per ricordarti lei le dà sti mutandoni giganti lui guarda i mutandoni giganti guarda Carol e dice no dai fa niente tienili che secondo me però è una tecnica anche questa cioè lui si è presentato come l'uomo perfetto e adesso inizia la cosa dell'erosione dell'autostima eh cioè eh sì sì poi sai che cazzo c'è da erodere in Carol eh ma lui non lo sapeva che Carol ce l'aveva già a zero no eh sì 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 terribile comunque nonostante inizi a tutti gli effetti in relazione con Doug Carol continua a chiedere a Janet di lasciare Jack e continua ogni tanto a offrirle dei soldi e ogni volta lei li accetta quindi ad un certo punto Carol va a offrirle di nuovo dei soldi ma stavolta ha un registratore nella borsa giusto ma Janet che lavoro fai? eh io faccio finta di lasciare mio marito ma veramente prendo 1500 euro al mese 1500 dollari al mese scusa infatti comunque stavolta Carol registra perché nella sua testa bacata se ti registro allora è un contratto no e allora poi fa ascoltare questa registrazione a Jack che anche qua io mi chiedo ma perché lo vuoi far lasciare se ti sei già messa con un altro intanto era perché Doug è un ripiego Jack è l'uomo della sua vita si Jack è meglio Jack è meglio comunque lei fa ascoltare la registrazione a Jack e Jack in tutta risposta la sfratta perché ricordiamoci che lei era nel condominio gestito da Jack da sua moglie quindi le hanno spillato tutti i soldi spillabili a questo punto comunque Janet si lei li prende i soldi di Carol però è molto scocciata che suo marito si continui a bombare sto roito questo per dirlo con parole di Janet che non avrà usato queste parole però fa niente adesso sono io che metto le parole in bocca agli altri e Jack non ne può più insomma la manda via e così nel 1980 Carol si trasferisce a Burbank dov'è Burbank? è sempre lì a Hollywood ma per la precisione dove ci sono i Walt Disney Studios ma non solo i Walt Disney Studios anche altri studios però vabbè e guarda caso lei si trasferisce ma pensa al caso proprio a fianco alla fabbrica di sapone dove lavora Doug oh ma che caso è un caso e allora a quel punto Doug diceva vabbè lavoro qua mi trasferisco e si trasferisce da Carol a gratis nel senso lei gli dice paga l'affitto e lui paga l'affitto a Carol e poi dice cioè magari adesso non lo so l'affitto era 300 dollari sparo una cifra a caso lui dà 300 dollari a Carol e poi dice a Carol scusa ti volevo chiedere mi puoi prestare 600 dollari lei gli prestava 600 dollari lui non gli ridava mai però al mese dopo gli ridava i 300 dell'affitto e poi gliene chiedeva altri quindi era tutta una pantomima tipo una roba ridicolissima e in tutto questo però Carol continua a scopare con Jack cioè Jack l'ha sfrattata ma continua a bombarsela che allora Jack però a un certo punto ste qua te le devi togliere dai piedi veramente perché se glielo continui a dare poi di cosa ti lamenti eh sì sì ma adesso cioè facciamo un attimo di un minuto di silenzio per l'anima di questa Carol che veramente cioè a me sta facendo una pena ricordati però che molesta un undicenne ah ok così te la butto lì sì ho capito sì va bene va bene cioè nel senso per carità fa pena lo stesso no cioè a me fa una pena è arrivata a molestare un undicenne per quello che le succede cioè non che sia giustificabile la cosa però veramente cioè come persona mi fa una tristezza che porca miseria glielo darei anch'io e guarda Marco te lo dico poi a letto era bravissima eh sì questo lo dicono tutti lo dicono tutti comunque ora che in tutto questo Carol è tornata a vedere ce la siamo ricordati sta cosa e quindi è tornata anche a lavorare come infermiera ma continua a ricevere i soldi dallo Stato per quella cosa che dicevamo prima quindi c'è anche questo dettaglio qua Carol per qualche motivo assurdo è piena di soldi e Doug la sta sfruttando per i suoi soldi ma anche Jack perché è vero che fanno i fuochi d'artificio a letto però ogni volta che lui dice comprami questo comprami questo lei lo fa quindi tutti la sfruttano anche per i soldi basta qua comunque in tutto questo la relazione con Doug va avanti però lo sappiamo Doug non è uno fedele quindi a un certo punto si trova un amante fissa che lei pensa di essere l'unica sua fidanzata che si chiama Lydia ovviamente non molla Carol no c'è un amante fisso perché in questa storia sono tutti poliamorosi ecco diciamola così diciamola così Carol però si offende dice ah allora non sono più la più importante per te perché lui inizia proprio a frequentare regolarmente questa Lydia restare a dormire da lei non è che se l'è scopata una volta e basta allora Carol si offende e allora dice vabbè mi trovo un altro amante perché Jack me lo dà sempre meno e quindi se ne trova un altro perché vi cito quest'amante perché farà una cosa nel senso questo tizio se la scopa in segreto perché si vergogna a farsi vedere in giro con lei però alla fine ha un minimo di cuore quest'uomo qua perché Carol gli fa pena e Carol gli racconta di tutte le cose con Doug così e lui dice ascolta Carol ma tu hai il conto in comune con Doug e lei dice sì ti accompagno in banca io ti apre un altro conto a parte solo tuo e la maggior parte dei soldi li metti lì poi se quando ti arriva lo stipendio te lo accreditano in quello in comune va bene però ogni tanto mettiti da parte dei soldi perché a me mi dà l'impressione di uno che prima o poi scappa col bottino e lei ascolta sto tizio vanno in banca insieme e infatti appena arrivano in banca lei scopre che misteriosamente non ci sono più 6.000 dollari sul conto perché Doug avrà dovuto pagare l'affitto è vero Doug ma mancano 6.000 dollari eh lo so ti dovevo 6.000 dollari di affitto a retratto esatto ecco ah ok Doug va bene che gentile comunque quando quando Doug se ne accorge si incazza tantissimo con Carol e si mette a fare del gaslighting pazzesco dicendo questo qui sta cercando di farti aprire un conto perché è lui che vuole rubarti i soldi e riesce a manipolarla talmente tanto che alla fine lei smette di frequentare quest'uomo qua a questo punto Doug diventa sempre più abusante perché fino ad adesso si era comunque era comunque piacevole da avere in giro perché Carol la riempiva di corna però poi quando c'era era un simpatico mascalzone ti fotto i soldi e ti fotto pure a te però sono simpatico adesso inizia a diventare anche violento mano a mano e allora lei si sente che lui non l'ama più e cerca di fare di tutto per riconquistarlo e allora Doug dice ma guarda ascolta io io a me piace il BDSM tac e quindi Carol dice ma che problema c'è io ormai ho fatto di tutto e cioè lei dice proprio che bello guarda ma anche al mio papà piaceva quindi sì esatto guarda guarda mi leggo da sola e allora iniziano a sperimentare in quel senso ma qui non stiamo parlando di normale sperimentazione di dinamiche sadomaso di dominazione no iniziano a vedere quanto schifo riescono a fare in sostanza no a fare le peggio cose e ad un certo e condividono anche le loro fantasie tra di loro ad un certo punto Doug le dice io ti amo ma non so se tu mi ami perché l'amore è essere pronti ad uccidere gliela butta lì e Carol dice c'hai ragione ma io sono pronta a uccidere tutti per te per te tutto quello che vuoi allora Doug visto che c'è dice ma sai io ho c'ho un po' io ho tante fantasie ogni tanto c'ho questa predilezione per la necrofilia gliela butta lì al che Carol dice ma come Ted Bundy oh che carino quindi si sono proprio trovati questi due qua comunque dato che lui ha questo fetish per la necrofilia Carol accetta pensate di farsi un bagno ghiacciato e poi di uscire tutta fredda e stare immobile mentre lui la scopa fingendo di essere un cadavere ok 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 Marco Marco mi sta guardando come per dire ma sta storia te la sei sognata di notte no cioè no nel senso so che è vero cioè io a me Carol fa pena cioè fa pena mi fa pena anche quanto si pieghi al volere delle altre persone cioè nel senso perché ovviamente io non credo che a lei piaccia o le citasse il fatto di farsi il bagno ghiacciata ghiacciato per poi uscire fredda e far finta di essere un cadavere cioè nel senso non ci credo lo fai per secondare le fantasie di un'altra persona che però non è la persona della tua vita è una persona di merda che ti sta sfruttando in tutti i modi quindi cioè a me quella roba lì fa pena cioè nel senso ok cioè mi fa una tristezza infinita altri li detestano so tipo se sono Ted Bundy cioè non può far pena però lei sì lei sì mi fa pena vabbè comunque a un certo punto poi Doug adesso che ormai si sono ritrovati come coppia le chiede un favore dice ascolta io volevo comprarmi una pistola però la fedina penale sporca non è chiaro per cosa una roba di truffe una cosa non grave comunque ma in ogni caso con la fedina penale sporca nello stato della California non te la puoi prendere la pistola e allora dice ma non è che me la compri tu e che lo dice ma certo e così va a comprare una pistola che paga lei e viene segnata suo nome e tutto tre giorni dopo questa cosa della pistola Doug è in giro in macchina e adesso qua dopo tutto sto preambolo arriviamo agli omicidi dopo solo due ore vabbè comunque qualche giorno dopo appunto Doug è in giro in macchina e accosta appunto sulla sunset strip quindi la sunset boulevard vicino ad una prostituta che si chiama Charlene che ha 22 anni lui si fa trovare già col cazzo di fuori perché comunque lui non perde non perde tempo e chiede appunto contrattano per un lavoretto di bocca ok lei accetta il suo lavoro e mentre sono nel mezzo dell'azione Doug che ricordiamo si era appena fatto comprare una pistola invece tira fuori un coltello inizia ad accoltellarla mentre lei è proprio lì che sta facendo l'atto ok quindi lei al suo cazzo in bocca lui inizia ad accoltellarla lei riesce a scappare anche per miracolo perché comunque dipende anche dove uno ti colpisce col coltello però riesce a buttarsi fuori dalla macchina piena di sangue perché riceve più non è che riceve una coltellata e scappa riceve diverse coltellate riesce a scappare si salva per miracolo Doug a quel punto torna a casa tutto insanguinato Carol lo vede tutto insanguinato e lo aiuta a pulirsi eh ma comunque Doug è stato anche fortunato cioè che lei non ha stretto ma infatti ma infatti ma adesso vedremo che sta cosa a Doug piace molto quindi forse rischio di trovarsi col cazzo staccato a morsi non lo so non lo so la cosa grave è che non è solo Carol che lo vede che torna a casa insanguinato lo vedono anche i bambini e Carol dice ai bambini non vi preoccupate ha fatto un incidente in moto va bene mamma va bene comunque un giorno davanti a Carol Doug fa una roba assurda nel senso va da Chris il figlio maggiore e dice figliolo portami un attimo un coltello così ti ammazzo al bambino giusto sì che non non dicono mai quanti anni esattamente hanno sti bambini allora cosa sono nati nel 70 tipo c'hanno 10 anni i bambini 70-71 sì sì 9-10 anni esatto ok Chris è quello più grande quindi c'ha 10 anni Chris allora va in cucina e urla eh non lo trovo il coltello giustamente perché cosa sta succedendo tra l'altro bambini cioè ubbidienti nel senso vabbè però è una buona tecnica in realtà sì sì vado a prenderti il coltello così intanto ti allontani cioè non è sì sì e chiaramente lo trovava il coltello però gli ha detto non lo trovo sperando di salvarsi per fortuna Carol interviene e lo mette a letto questo è un test che ha fatto Doug per vedere la reazione di Carol la reazione di Carol è stata niente cioè ha messo a letto il bambino allora Doug mano a mano inizia a diventare violento anche lui con questi bambini che fino adesso almeno era stato un buon patrigno non più e secondo me lo fa per vedere le reazioni di Carol Carol al contrario di quello che aveva fatto con Grant Bundy non lo lascia Doug cioè Doug vede quanto lui può fare per cioè fino a che punto si può spingere senza che lei lasci e vede che si può spingere ovunque in sostanza ok quindi a questo punto Doug prova un'altra tecnica per vedere fin dove può spingersi cioè smette di fare sesso con Carol e a Carol sta cosa non va bene quindi lei cerca sempre di fare sesso con lui e lui fa delle robe veramente atroci del tipo no no con te non c'ho voglia ascolta ma usciresti un attimo mi vai a tirar su una prostituta me la paghi grazie e lei gli andava a prendere le prostitute a lui già questa cosa qui non ha non ha non ha senso cioè quanto può averla plagiata per spingerla a fare una roba del genere cioè no lei si sente che non vale niente eh cazzo sì sì comunque un giorno però si sente romantico quindi ricordiamoci che Carol in questo momento è sicuramente in crisi dice ah non mi vuole neanche più scopare che per lei è una cosa gravissima questa e allora lui un giorno fa un po' romantico lei gli vengono gli occhi a cuore lui dice ascolta ho un'idea romanticissima ma perché non ci compriamo tipo due pistole uguali che è una roba romantica le vai a comprare quindi lei va a comprare due pistole uguali però mentre sta portando a casa le pistole le viene un'idea e quindi si organizza per mandare i figli a vivere dai nonni paterni dice forse è il caso che li mando via ok forse poi Doug dice grazie per le pistole ma visto che la tua macchina non mi piace tanto me ne compri un'altra e lei gli compra un'altra macchina sì signore quindi quella sera stessa Doug prende la sua nuova macchinina e va sulla Sunset Strip e approccia un'altra ragazza una prostituta di 17 anni tra l'altro che si chiama Marnette le chiede un lavoro di bocca e mentre lei glielo sta succhiando lui le spara cioè a lui piace proprio questa roba qua di uccidere mentre mentre la vittima ha il suo coso in bocca le spara e poi abbandona il cadavere in una discarica abusiva dopo circa un mese Doug ritorna sempre da solo sulla Sunset Strip e qui carica due ragazze insieme si chiamano Cynthia Chandler e Gina Marano e sono due sorellastri che sono scappate di casa e praticamente Cynthia si sta un po' prostituendo per cercare di tirare su dei soldi e Gina è lì per non farla stare da sola in sostanza ok perché poi sono giovanissime quindi Doug le carica si mette a chiacchierare amabilmente con loro loro si sentono a suo agio con lui e arrivano anche a raccontarle del fatto che sono appena arrivata a Los Angeles però hanno già fatto amicizia con questa ragazza fighissima che sta insieme a un avvocato che si chiama Mindy io ve lo dico allora poi chiacchierano chiacchierano a un certo punto Doug giustamente accosta e dice ok adesso Cynthia fammi il lavoretto di bocca Gina però tu non stare a guardarci guarda fuori dal finestrino e certo perché se mi fissi mi imbarazzo e Gina si gira lui estrae una pistola le spara in testa davanti agli occhi di Cynthia e a quel punto spara anche a Cynthia poi mette i cadaveri nel bagagliaio e guida fino a un garage che aveva affittato sempre nella zona di Burbank e in questo garage si dà la pazza gioia con entrambi i cadaveri ok finito di divertirsi con i cadaveri va a trovare Lydia che è la sua la sua nuova fidanzata praticamente mentre lui è ancora con sé quel giorno stesso perché poi sta gente fa ste cose di mattina che io ste cose le devi fare di notte perché mi confondi se le fai di mattina no che vero che pensi sempre che è notte quando succedono ste cose sì sì io mi immaginavo proprio la scena di notte e invece no non è notte quel giorno stesso Carol prende la macchina di Doug perché lui poi forse è tornato a casa anzi no era successa una roba del tipo che lei sapeva che lui era da Lydia va con la sua macchina da Lydia e prende la macchina di Doug perché lei doveva fare la spesa quella di Doug era più grossa se ci sono due cadaveri nel bagagliaio direi che è più grossa sì quindi lei va prende la macchina e dentro la macchina trova una borsa piena di vestiti insanguinati dice che è strano va a fare la spesa poi torna a casa mette la spesa in frigorifero poi va in lavanderia a lavare questi vestiti perché tu trovi dei vestiti insanguinati li lavi non è che fai delle domande prima no certo li lava comunque quella sera stessa Doug non so come recupera la sua macchina però torna nel garage perché i cadaveri li aveva lasciati dentro il garage per violentare di nuovo i corpi poi dopo che ha finito decide di buttarli giù da un dirupo sull'autostrada insomma sai c'è l'autostrada c'era sta non so se dirupo la parola giusta li butta li butta giù sì 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 ok e tra l'altro vicino agli studi di animazione della Disney questo succede è il che la dice lunga sui film che vengono fuori da quelli ma cosa c'è e il giorno dopo questa cosa che è il 12 giugno siamo sempre nel 1980 non dirò mai più date perché 1980 succede tutto lì sì vengono trovati questi corpi e quando vengono trovati i corpi tutti pensano agli inside stranglers cioè gli strangolatori della collina che lasciavano in giro corpi nelle stesse condizioni tuttavia non possono essere stati loro perché loro sono stati arrestati da qualche mese quindi ultimamente si era parlato molto di loro sui giornali e quindi la polizia dice cazzo abbiamo un copycat i copycat sono quelli che imitano gli omicidi di killer più famosi sì ma anche perché i corpi degli come si dice strangolatori della collina sì degli strangolatori della collina non erano sparati cioè non avevano colpi di pistola erano strangolatori erano strangolatori però il modo in cui erano stati abbandonati sì sì non lo so fanno questo collegamento gli investigatori sì sì e c'è una conferenza stampa e Carol in quel momento è a casa e guarda la conferenza stampa in diretta e decide di chiamare la polizia quindi lei chiama il numero e dice sto guardando la conferenza stampa di queste due ragazze allora io ho il dubbio che forse è stato il mio ragazzo Don dice che si chiama Don il suo ragazzo io mi chiamo Betsy perché e Don e Betsy erano i nomi che usavano loro per mettere gli annunci erotici tra l'altro tra l'altro quindi dice eh non lo so ho questo dubbio che è il mio ragazzo che fa queste cose poi a un certo punto dice ah no scusate scusate ho detto che mi chiamo Betsy però facciamo che mi chiamo Claudia preferisco quindi anche anche l'operatore dall'altra parte è estremamente perplesso quindi cerca di fare delle domande Carol però resta molto molto vaga e l'impressione che ha l'operatore è che questa donna o sta facendo uno scherzo o sta cercando di ottenere più informazioni cioè invece di rispondere alle domande è lei che cerca di fare domande e ad un certo punto cade la linea non è chiaro perché Carol dice che le hanno messo giù l'operatore dice che ha messo giù lei cade la linea magari è caduta la linea veramente e ci ha succeduto comunque quindi Carol fa questa segnalazione e basta cioè ci ha avuto un attimo però poi alla fine non l'ha fatta veramente la segnalazione ha dato dei nomi falsi stava cercando di capire meglio non lo so sta di fatto che a quel punto Doug decide di andare a fare un giro in macchina proprio insieme a Carol quindi la fa salire in macchina alla porta dove sono stati ritrovati i cadaveri e dice guarda mi sono disfatto dei cadaveri lì quindi confermando tutti i sospetti che Carol già aveva poi si gira verso di lei e dice Carol ricordatelo io non voglio ucciderti ma potrai benissimo e potrai anche uccidere i tuoi figli tu ricordatelo a sta cosa ok sì sì non è una minaccia è un promemoria ma te lo do io il promemoria eh sì esatto esatto comunque poi il 20 giugno i due vanno insieme stavolta sulla Sunset Strip dove appunto loro vanno in una zona piena di prostitute tra l'altro molto giovani e tirano su un'altra ragazza che si chiama Kathy quindi loro sono in tre in macchina a questo punto accostano Doug se lo fa prendere in bocca come al solito e poi fa segno a Carol di sparare alla ragazza perché loro si erano accordati così cioè me lo succhia tu sparare alla ragazza che è pericolosissimo per Doug no ma anche quando sparava lui lui cioè nel senso devi comunque inclinare la pistola in modo che poi non ti becchi tu le balle cioè perché a lui lui eccitava il rischio non lo so non lo so comunque Carol prende la pistola ma tentenna allora Doug si scoccia e e spara lui sempre ok poi insieme buttano via il corpo in mezzo alle sterpaglie il giorno dopo il 21 Doug esce di nuovo da solo è da solo però Carol gli aveva dato una kill bag cioè gli aveva preparato amorevolmente questa schiscetta del killer con con dentro coltelli tovagliolini di carta che sono importanti borse di plastica guanti disinfettante certo va che che amore che Carol quindi Doug carica questa ragazza che si chiama Exy anche lei era appena arrivata a Los Angeles ed era lì con altre due ragazze tutte e tre venivano dall'Arkansas va che vi ho tirato fuori l'Arkansas quello stato che si scrive Arkansas ma si pronuncia Arkansas infatti era un po' che mancava era con queste ragazze perché loro avevano lo stesso pappone che si era messo nei guai in Arkansas e quindi le aveva trasferite tutte a Los Angeles ok quindi quando Doug la carica lei sta chiacchierando con le altre due ok sale in macchina stesso copione di sempre durante l'atto Doug le spara però poi fa una cosa diversa cioè la decapita le taglia la testa e abbandona il corpo sul retro di un ristorante la testa se la tiene poi però sta guidando verso casa si in paranoia dice cazzo ma questa era con altre due se le interrogano mi sanno descrivere perché mi hanno visto bene in faccia allora ritorna dove aveva tirato su Exy cercando le altre due ragazze e ne trova una Karen e farà fuori anche Karen e poi abbandonerà il corpo da qualche parte a quel punto torna a casa apre il freezer e ci mette dentro la testa vogliamo una storia senza testa nel freezer no infatti no tra l'altro in tutto questo mi ero dimenticata di dirlo in tutto questo Doug è tornato solo con Carol perché Lydia l'ha lasciato perché ha scoperto che Doug portava il figlio di Lydia fuori con Carol quindi faceva tipo le scampagnate col figlio vabbè fa niente comunque a questo punto Doug non ha altre fidanzate c'è solo Carol in questo momento storico e mette la testa nel freezer e poi esce per andare a cercare questa terza ragazza che lui prima non l'aveva trovata ma per fortuna non la trova quindi poi torna a casa e racconta tutto a Carol e Carol cosa fa? gli fa i complimenti che bravo che sei poi ad un certo punto lui si stava annoiando Doug e si mette a spulciare nell'agendina di Gina perché Doug si teneva molti oggetti delle sue vittime ok e si era cioè si tiene praticamente tutto quello che c'è nelle borsette e quindi Gina aveva questa agendina lui si mette a guardare nell'agendina e trova il numero di Mandy vi ricordate che prima vi ho detto che Gina e Cynthia hanno detto che avevano appena avuto incontrato una nuova amica questa Mandy lui telefona a Mandy e dice buonasera sono il detective Clark quindi dà il suo vero nome sì vabbè volevo fare delle domande su Gina e Cynthia che sono morte tra l'altro Mandy era una che non guardava i telegiornali non lo sapeva neanche che queste due erano morte ci resta un attimo di sasso dice beh lo sapeva che erano prostitute e tutto e fa un sacco di domande poi dice io avrei bisogno di parlare con lei dal vivo posso venire a casa sua in questo momento e lei risponde no non posso perché sto facendo la babysitter e lui dice richiamo dopo e quindi Mandy poi le mette giù e resta un pochino perplessa da questa telefonata sì e come avevano detto le sue due amiche Mandy stava insieme ad un avvocato sorvolerò sul fatto che una diciottenne stava con un trentenne tanto è il minimo in questa storia no chi se ne è sì sì ormai ormai siamo andati oltre quella di Mandy e il suo fidanzato resta comunque la relazione più sana di questa storia quindi non starò a farci le pulci lei chiama sto ragazzo e dice ma mi ha chiamato sto detective ma secondo te e allora il fidanzato avvocato chiama il centrale di polizia e chiede se c'è un detective Clark gli dicono no non c'è nessun detective Clark e quindi la polizia mette sotto controllo il telefono di Mandy per cercare di capire cosa sta succedendo comunque in tutto questo abbiamo lasciato Doug che ha messo una testa nel freezer quindi un giorno finalmente Carol apre sto cazzo di freezer e trova la testa e ne resta molto affascinata si mette a guardarla Doug dice hai visto ho avuto quest'idea l'ho portata a casa così la posso usare per masturbarmi e che ma scusa ma le mani non ti funzionano più che devi usare le teste congelate per masturbarti senti mica mica lo faceva solo camper cioè non è che c'è solo ex camper che fa queste cose ok allora Carol dice è un'ottima idea però è un po' sbattuta così sta ragazza fammela truccare quindi appoggia la testa congelata tra l'altro sul bancone della cucina prende tutti i suoi trucchi e le fa il make up e Doug è entusiasta dice ah ma come l'hai fatta bella è più bella adesso che quando era viva e poi se la porta in doccia per masturbarsi quindi rovina anche il trucco quindi poi Carol deve struccarla ritruccarla e poi la ricongela sì considerando anche che le teste mozzate non è che cioè nel senso sono come quelle dei manichini che poi rimangono cioè nel senso col sorriso cioè in genere hanno delle espressioni che eh guarda no comunque fanno sta cosa per un po' di tempo solo che dopo un mesetto è anche ora di buttare via la testa perché comunque lo dicono sempre di non scongelare rincongelare le cose bisogna buttarla via e allora Carol ha un'idea dice ma guarda mettiamola in una bella scatola e quindi Carol va in un negozio a comprare una scatola di legno mi sembra che è tipo placata è nera tipo vernice sì tipo verniciata nera ma tutta decorata no compra cioè lei va apposta a comprare ma non c'è uno scatolone a casa no va a comprare apposta e in futuro non servirà adesso ma in futuro poi andranno a parlare con il tizio che le ha venduto la scatola e lui dice sì sì mi ricordo esattamente era una una signora brutta con gli occhiali grassa che aveva i guanti addosso e qui in California nessuno possiede neanche un paio di guanti quindi era strano quindi lei si è fatta notare tantissimo proprio per sta idea del cazzo di comprare la scatola comunque compra sta scatola io mi immagino anche ma lei va bene questa aspetti un attimo che la provo e si infila la testa dentro per vedere se ci sta cioè come cazzo la compri una scatola per una testa eh vabbè può dare andiamo avanti sì andiamo avanti che questa è la puntata più lunga di sempre ragazzi vabbè comunque compra sta scatola loro mettono la testa in questa scatola e la abbandonano in un parcheggio verso l'una di notte un signore parcheggia lì e vede sta scatola e dice il tesoro dei pirati che cazzo ha preso un forziere sì ora la mia teoria è che sto tizio era ubriaco perché cioè se vedi una scatola di legno in un parcheggio di notte non urli il tesoro dei pirati no cioè però lui stava tornando a casa dal lavoro che lavorava fino a tardi beveva sul lavoro non lo so comunque lui tutto entusiasta va ad aprire questa scatola e ci trova la testa tra l'altro testa che è stata precedentemente anche congelata quindi una roba terribile quindi viene chiamata la polizia la polizia ricollega questo omicidio con i due cadaveri di Gina e di Cynthia che aveva trovato per via degli stessi proiettili perché comunque Doug sparava in testa cioè gli piacevano le teste però poi si sparava in testa ed è a questo punto che si inizia a parlare del Sunset Strip Slayer o del Sun perché ho detto la congiunzione in inglese o del Sunset Strip Killer allora Slayer vuol dire comunque killer la stessa cosa però però SSS suonava meglio quindi certo si inizia a parlare di questo killer di gli eroi tedeschi esatto esatto comunque dato che si inizia a parlare così tanto di questi omicidi Doug cambia pistola ovviamente gliela compra Carol però lui cambia pistola perché sa che lo riconoscono tramite i proiettili sì ma scusa lui ne aveva tre cioè ne aveva due uguali ne aveva due uguali e un'altra sì ne vuole una nuova non lo so adesso tutte le volte che deve uccidere qualcuno manda Carol a comprare una pistola punto Carol gliele compra cioè lei c'ha la fedina penale pulita quindi può comprare tutte le pistole che vuole comunque col fatto che i giornali i telegiornali stanno parlando degli omicidi di Doug inizia a esserci un po' di tensione in casa perché sì è divertente truccare le teste poi masturbarsi con le teste truccate però dopo un po' salgono un po' di tensioni e Doug sfoga le tensioni maltrattando molto Carol e anche e poi non vuole più fare sesso con lei allora Carol dice ascolta ricominciamo a fare sesso perché ho un bonus ve la ricordate l'undicenne? sì Carol inizia a far molestare l'undicenne anche a Doug fanno le cose a tre con un undicenne però insomma secondo me Carol sta iniziando a sbarellare anche lei cioè lei sta cercando di comportarsi come se fosse tutto normale e fighissimo ma si rende conto che queste cose non sono normali quindi un giorno telefona a Dick Richard l'unico uomo decente che è passato per un secondo nella sua vita e proprio a malapena decente però in confronto agli altri un gran signore allora lo chiama e gli racconta tutto dice guarda che c'è Doug che ammazza le ragazze una volta mi ha portato anche a me io non so cosa fare Richard è sconvolto ovviamente e dice non lo so chiama la polizia cioè anche lui non sa cosa perché adesso se una vi chiama e vi dice ste cose non sai cosa rispondere no? eh beh beh sì sì ecco sì se poi ti chiede consigli cioè cosa ne so ecco allora lei poi gli mette giù e poi lo richiama subito e dice ah Dick ci sei cascato scherzone no sta scrivendo un romanzo con questa trama tu cosa ne pensi e Dick gli avrà detto guarda secondo me è assurdo non ci crede nessuno esatto è impossibile che succedano ste cose esatto no allora lui veramente gli dà i consigli sulla trama capito fate conto che lui non adesso non so dove viveva perché si trasferiva sempre non lo so se in California o no sto punto però fa niente mentre succedono tutte ste cose un giorno Doug si porta a casa una nuova ragazza di nuovo e Carol non la prende bene perché va bene le bambine che ti porto io per fare le cose a tre però se te le porti da solo non va bene e allora a sto punto scrive una lettera di suicidio Carol scrive una lettera dove si prende la colpa di tutti gli atteggiamenti e gli omicidi di Doug dicendo sono stata io che l'ho spinto a comportarsi così a fare queste cose scrive nella lettera poi chiama le sue colleghe infermiere per informarle che sta per togliersi la vita che è una roba quantomeno bizzarra ok poi no no non è finita qua poi si inietta delle grosse quantità di insulina ricordiamoci lei prende l'insulina perché ha il diabete ma l'insulina si muore se te ne inietti troppa cioè può essere molto pericolosa lei si inietta delle grandissime quantità di insulina e prende un'intera boccetta di tranquillanti e poi va al ristorante perché lei voleva morire in pubblico voleva morire seduta al ristorante ora Carol va bene volevi farti soccorrere subito e beh certo cioè prima telefoni per essere sicura di informare la gente poi dici non basta e vai in un luogo pubblico eh sì guarda io non le so neanche commentare queste cose perché è follia e basta no Marco eh sì sì ma sì ma non ha senso neanche la lettera di suicidio che ha scritto cioè il biglietto da Dio accollandosi gli omicidi le cose allora secondo me ma non se le accolla cioè lei si prende la responsabilità di averlo spinto ad uccidere ok sì scusami ok quindi quindi secondo me questa è una roba per denunciare Doug senza denunciare Doug cioè lei vuole farsi salvare vuole che trovino la lettera di suicidio lei perché si sta suicidando perché si sente in colpa e quindi ha senso che si suicidi però nel frattempo ti dico che Doug ha ammazzato queste persone sì certo poi tra l'altro ha senso che si suicidi ma non c'è voglia che di suicidarsi quindi lei entra al ristorante e dice ci sono medici in sala sì bene bene mi porti un chilo di tiramisù grazie praticamente esatto quindi in sostanza lei viene soccorsa subito ovviamente e solo che Doug arriva a casa trova il biglietto lo fa sparire quindi tutta sta roba salta in un secondo Carol però ora lei ci teneva a farsi soccorrere però si è presa veramente tanta insulina perché ragazzi resta in coma quattro giorni quindi insomma cioè lei ha provato veramente a suicidarsi ma si è assicurata che la salvassero però cioè potevi anche prenderne un po' meno insomma sì però però gli era gli era reso dura anche quelli che l'hanno voluta salvare sì gli era reso difficile sì esatto esatto quando si riprende prende il telefono e chi chiama Marco per farsi venire a prendere chiama era Doug no no chiama Jack chiama Jack chiama Jack e Jack la va a prendere all'ospedale e in macchina con lui c'è un'altra donna che si chiama Nancy se vi dico il nome c'è un motivo ok certo quindi Carol ci resta malissimo dice no vado a piedi gli dice ma va cosa dici la carica in macchina e la porta a casa con Doug e se ne va quindi Carol ci resta malissimo ma come cioè sei in giro con un'altra e allora cerca di consolarsi con Doug un giorno lei e Doug stanno facendo BDSM insieme all'undicenne quindi stanno facendo sadomaso e bondage con una bambina e Carol coglie l'occasione per far loro un servizio fotografico quindi ha le foto di Doug che fa cose con l'undicenne il giorno dopo questo episodio che è il 2 agosto Carol chiede a Jack di vedersi lui va all'appuntamento ma dice ascolta Carol ci ho pensato basta e non ti voglio vedere mai più e allora Carol dice ma io ho un'idea migliore se facessimo sesso a tre con quest'undicenne cioè lei ormai qualsiasi cosa tira fuori l'undicenne sì ma che cazzo è una bambola di pezza ma io cioè che se la porta indietro una bambola gonfiabile guarda non lo so avevano un rapporto malato perché cioè io penso a questa bambina che razza di vita deve avere a casa per affezionarsi a questa persona e per fare sesso tra mille virgolette consensuale nel senso che la bambina accettava di fare queste cose non veniva costretta ma chiaramente è grooming è stata manipolata è ovvio cioè non è non può consentire una bambina no no sì no comunque dopo questa proposta cioè adesso al di là di tutto dopo questa proposta Jack dice ma certo quindi anche Jack allora io lo capisco perché in effetti come si può dire di no se ti offrono un undicenne ma porca non lo so senza parole sì ma infatti posso dire che non ha senso sta trama no no ma è per quello che non ci hanno fatto il film perché hanno detto no raga no no non è non riusciamo a rendere non riusciamo a rendere credibile no per niente comunque allora lei porta su undicenne si mettono a fare cose a metà dell'atto Carol interrompe tutto perché attenzione colpo di scena Carol si è resa conto che non è giusto che Jack scopi l'undicenne perché l'undicenne se la deve scopare solo Doug sì ok a questo punto Jack la sfancula e lei però ci resta male che Jack la sfanculata allora due giorni dopo Carol ovviamente va a Little Nashville il locale dove suonava Jack e sorprende Jack che si sta tranquillamente limonando una tipa cazzi suoi Carol fa una scenata pazzesca la tipa si spaventa tantissimo vorrei anche vedere e scappa Jack si incazza dice ma cazzo ma cioè stavamo per scopare e Carol dice ma che problema c'è ci sono qua io e Jack dice ok che anche cioè boh vabbè vabbè ormai Jack c'è bel durello cioè cosa vuoi fare vuoi sprecarlo vabbè comunque si appartano nel furgone di Jack e Carol inizia a fargli del rimming sappiamo tutti cos'è il rimming mia nonna no glielo devo spiegare no si tratta secondo me tua nonna lo sa è una parola un po' tecnica eh sì 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 e quando si lecca il buco del culo ok l'ho spiegato in modo elegante quindi lei inizia ciao signor youtube vabbè senti abbiamo parlato di gente che si masturba in doccia con la testa decapitata direi che è anche il meno questo e quindi Carol che quanto pare era un talento nel rimming è lì che sta ravanando dentro a Jack e mentre Jack è lì che gli piace giustamente Carol tira fuori una pistola e spara a Jack mentre gli sta leccando il culo e Jack non muore allora lei gli spara ancora poi la coltella a quel punto Jack muore e Carol dice vabbè ma a sto punto finisco e ricomincia a leccare il culo basta chiudiamo chiudiamo ma sì questa qui è l'ultima puntata perfetto sì sì allora una volta aspetta io dico no dico una cosa alla nonna di Clara cioè nel senso i reming non è tutto spari coltellate così non si fa quello non è parte è un'edizione speciale signora non è che comunque una volta che ha finito lei fa sta roba che boh decapita Jack che cazzo ma è complicato decapitare le persone devi essere anche forte cioè devi rompere l'osso del colo cioè io non sono capace non ho mai provato non ho mai provato ma anche provando cioè io mi posso immaginare che è difficile no Marco cioè non è una passeggiata in macchina poi sì in macchina ma tra l'altro c'è nel senso con un coltello cioè un conto c'è una scura una sega no io penso che si sia portata dietro gli attrezzi penso che l'aveva già pianificata sta cosa perché comunque aveva la pistola cioè non penso che abbia usato un coltello penso che abbia preso visto che comunque Doug era un esperto a sto punto magari lei si era fatta dire cosa aveva usato lui non lo so comunque lo decapita e poi visto che c'è gli taglia via anche le chiappe se le porta via aveva un bel culo Jack che ti devo dire e e lascia il resto del cadavere nel furgone facendo una bella composizione di riviste porno tutte intorno che io immagino fossero riviste che Jack aveva comunque nel furgone perché se no non so dove le ha comprate apposta per far sta cosa non lo so non lo so comunque lascia questa scena del delitto un po' particolare dentro al furgone e poi alle tre di notte telefona Doug svegliandolo dice arrivo Doug arrivo aspettami sveglio e quando arriva a casa però trova davanti a casa i paramedici Carol mi dice cosa sta succedendo cosa stava succedendo mentre Carol era via mentre lei stava rincasando in realtà la nuova fidanzata di Doug che è Nancy che era quella che si era fatta anche Jack ha avuto un attacco epilettico alcuni dicono ha avuto un attacco epilettico perché ha sentito al telefono Carol che chiamava Doug e gli diceva di aver ucciso Jack ma in realtà non risulta che lei abbia detto sta cosa al telefono quindi forse ha avuto un attacco epilettico per i cazzi suoi cioè non lo so sì ma poi anche Nancy come avrebbe potuto sentire cioè se lei lo stava dicendo a Doug al telefono come avrebbe potuto sentire Nancy cioè che è la donna bionica che ha intercetta le telefonate ma non lo so cosa è successo sta di fatto che lei sta male Doug chiama i paramedici arriva anche la polizia tra l'altro per vedere cosa stava succedendo poi se ne vanno via subito e Carol aspetta che va via l'ambulanza quando va via l'ambulanza entra a casa tutta contenta Doug è un po' stravolto con tutta sta roba che è successa e lei tutta contenta gli fa Doug ma sai chi ho portato e gli dice chi Jack e lui si incazza perché Doug almeno così dice lui poi vediamo a Doug è sempre stato sul cazzo Jack e viceversa quindi si incazza ma come ti permetti di portarlo a casa di notte e poi dice guarda e tira fuori dalla borsa sta testa e allora materisate materisate anche se in realtà non è vero perché Doug pare che vomiti vedendo la testa di Jack cioè non ho capito le tue teste vanno bene quelle che taglia Carol no vabbè comunque Carol dice te l'ho portato per farti sto scherzo no però cosa ne facciamo di sta testa Doug ci pensa un attimo poi dice no dai pompini con la testa di Jack anche no e quindi salgono in macchina mentre stanno correndo in macchina lanciano la testa giù dal finestrino sta di fatto che sta testa non verrà mai trovata il corpo invece verrà ritrovato nel furgone diversi giorni dopo Janet aveva sporto denuncia per la sparizione però nessuno si era accorto di sto furgone parcheggiato in Culandia e è stata chiamata la polizia quando la gente avvertiva una puzza che veniva dal furgone anche perché è estate in California dentro al furgone quindi immaginiamoci a questo punto Carol viene interrogata dagli investigatori perché quando trovano il corpo di Jack è vero che non c'è la testa però quello era il furgone di Jack e Jack è scomparso quindi è Jack insomma e allora interrogano anche le persone che hanno avuto a che fare con Jack quindi interrogano anche Carol e Carol dice no no io sono stata a casa tutta la sera chiedete a Doug loro chiedono a Doug e Doug dice no no Carol non era proprio a casa anche gli gli investigatori iniziano a guardarli con sospetto però obiettivamente non hanno elementi per sospettare di loro gli suona strana sta cosa che gli hanno detto due cose diverse quindi iniziano a tenerli d'occhio diciamo Carol si stressa sempre di più a questo punto perché l'hanno pure interrogata e allora lei e Doug litigano litigano Doug prende e va a vivere da un'altra fidanzata ancora pieno di donne questo uomo qua Carol allora da sola cosa fa telefona a Dick a Richard sì e di nuovo gli racconta di tutti sti omicidi e Richard dice si ascolta Carol adesso non c'ho tempo e mette giù poverino effettivamente stava facendo qualcosa probabilmente questa è probabilmente sì sì cioè lui non poteva sapere tutto quello che stava succedendo veramente qualche giorno dopo l'undici di agosto al lavoro Carol racconta alle sue colleghe degli omicidi vuota al sacco cioè come aveva fatto con Richard con le sue colleghe però poi non dice stavo in realtà sto scrivendo un libro allora le sue colleghe chiamano la polizia ma Carol incredibilmente riesce a scappare quindi scappa dall'ospedale dove va eeeh non lo so va a casa sua non mi troveranno mai qui no ma lei perché lei non sta scappando va a casa per fare una roba specifica lei raccatta tutti i trofei di Doug perché come ho detto prima Doug si portava a casa un sacco di oggetti delle sue vittime sai tipo l'agendina di Gina queste robe qua dopo aver raccattato tutto telefona lei alla polizia e al telefono confessa tutto cioè confessa tutti gli omicidi di Doug e confessa anche di essere stata invece lei ad uccidere Jack e poi dice la celebre frase devo dire che uccidere è divertente tipo andare sulle montagne russe e poi specifica ma comunque non gli abbiamo mai fatti soffrire no no infatti no anzi vabbè mentre lì che dice queste cose al telefono arriva fisicamente la polizia che la arresta poi vanno da Doug che invece era in fabbrica al lavoro e arrestano anche lui allora Carol come vi ho detto ha già confessato tutto e poi fa vedere tutte queste prove tutti questi trofei di Doug e tira fuori anche le foto di Doug che fa BDSM con l'undicenne ok fa vedere anche quelle e poi dice io non volevo uccidere Jack ho dovuto uccidere Jack perché gli avevo confessato tutto e sapevo che avrebbe chiamato la polizia e allora l'ho ucciso questa è la confessione che fa Carol che poi ribadisce che si uccidere era divertente ma non prendetemi per una psicopatica no 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 signora se figuri no ma poi per convincere a non prenderla con una psicopatica lei aggiunge anche devo dire che ci siamo divertiti proprio tanto con la testa di Exy mi piaceva truccarla e pettinarla era un po' come avere una Barbie beh Carol dopo questa frase siamo convinti che non sei una psicopatica no no infatti convinti e poi dice io so che Doug ha ucciso queste ragazze che vi ho raccontato che sono le stesse ragazze ragazzi di cui ho parlato io in puntata cioè le vittime di cui vi ho parlato in puntata sono quelle di cui parla anche Carol alla polizia però poi Carol dice ci sono molte altre vittime ed effettivamente in quel periodo erano sparite molte molte ragazze quindi è probabile che sia vero racconta appunto che Doug è assolutamente ossessionato dalla necrofilia e quindi racconta queste cose però al di là della confessione di Carol dobbiamo dirlo contro Doug ci sono un sacco di prove perché ci sono le pistole appunto i buchi di proiettile nella macchina di Doug tra l'altro compatibili con i proiettili trovati nei cadaveri il sangue nel garage che lo aveva affittato insomma ci sono un botto di prove ma sono tutte circostanziali cioè senza la confessione di Carol non avrebbero proprio avuto un caso schiacciante esatto contro Doug e infatti Doug che cosa dice dal canto su lui dice che lui non c'entra niente no è Carol la pazza assassina lui è una povera vittima io volevo chiamare la polizia e dire che c'era Carol che è una pazza assassina che ammazza le ragazze ma non potevo perché Carol mi ricattava perché lei aveva le mie foto con l'undicenne quindi io sono solo un povero pedofilo rimasto vittima di questa pazza giusto questa è la versione di Doug e poi racconta che Carol era proprio ossessionata da Ted Bundy questa cosa continuerà a ribadirla Doug anche negli anni futuri cioè lei era talmente ossessionata da Ted Bundy che lei aveva sposato Grant solo ed esclusivamente per avere il cognome Bundy lei voleva imitare Ted Bundy e poi dice giustamente ma secondo voi posso essere stato io veramente ad aver ucciso quelle ragazze ma secondo voi io sparo alle donne mentre hanno il mio cazzo in bocca in effetti è una cosa abbastanza giusta è un'argomentazione schiacciante io direi e infatti secondo me il dubbio su Doug ci può essere se non fosse per una cosa e questa cosa è che gli inquirenti recuperano una testimone molto importante Charlene che se vi ricordate era la ragazza che si era salvata per miracolo quella coltellata quella coltellata sì la prima di cui ho parlato io perché non sappiamo quanti esperimenti avesse fatto Doug prima però recuperano anche la sua testimonianza e quindi insomma il caso su Doug si fa un po' più solido dal carcere intanto sono in custodia cautelare Carol scrive a Doug e si scusa dice guarda scusa se ti ho denunciato io non volevo però guarda che te la sei cercata tu perché non avessi dovuto trattarmi così male mai fare incazzare una donna mai mai comunque Carol cerca fa carte false per ottenere l'immunità in cambio delle sue testimonianze contro Doug anche perché Doug continua a dichiararsi innocente quindi in processo servirà moltissimo la testimonianza di Carol però non le danno l'immunità allora Carol cerca di farsi dichiarare incapace di intendere di volere le fanno i test emerge che ha un quoziente intellettivo di 108 e che è assolutamente competente per il processo 108 non è neanche basso come quoziente no no è nella media ma medio alta è un bese normale sì sì e arriviamo 1983 inizia finalmente il processo a Doug l'avvocato di Doug è un pubblico difensore e si vede che non c'ha voglia non c'ha voglia di difenderlo ma ragazzi al punto che si addormenta in tribunale quindi ora a noi Doug non sta simpatico spero non mentre stesse parlando lui cioè nel senso sta facendo l'introduzione allora volevo dire che il mio cliente no sarebbe bellissimo no invece no vabbè si addormenta insomma adesso noi Doug ci può pure stare antipatico e lo possiamo odiare disprezzare però dovresti avere un avvocato un minimo competente cioè quello è il diritto di anche dei più mostri no sì sì e niente c'ha sto avvocato non riesce a farsene dare un altro e allora dice vabbè ragazzi visto che tanto qui siamo in tema Ted Bundy comunque mi difendo da solo e quindi genio ho capito ma io posso dire che c'ha ragione lui perché è una pessima idea difendersi ma se da soli ma se il tuo avvocato si addormenta in aula è meglio che ti difendi da solo sì cioè quello è vero obiettivamente comunque l'accusa tira fuori tutte le prove trova un diario di Doug dove parla degli omicidi quindi anche lui non è sveglissimo che cazzo ti tiene il diario poi riviste pubblicazioni di BDSM estremo e di necrofilia poi trovano perché ci sono delle riviste pubblicazioni sulla necrofilia illegali sì le fanzine quelle cose lì sì ce ne erano ci sono adesso c'è internet il deep web però l'equivalente sì sì c'era lui ne aveva parecchie e poi trovano l'arma del delitto non in casa ma in un condotto dell'aria nella fabbrica dove lavorava Doug perché pare che lui avesse nascosto lì quest'arma poi non lo so se effettivamente lui l'ha nascosta lì o come dice Doug l'hanno messa lì perché dovevano accusare qualcuno e quindi Doug alla fine del processo viene trovato colpevole di sei omicidi e di un tentato omicidio e di conseguenza condannato a morte ovviamente siamo in California Doug è ancora vivo quindi ragazzi niente cosa interessante che dirò veloce perché questa è la puntata più lunga di sempre no è quella della Gucci la più lunga però ci stiamo arrivando allora mentre in prigione Doug inizia una corrispondenza con Veronica Compton che voi direte chi cazzo è parleremo di lei quando parleremo degli strangolatori della collina perfetto perché Veronica Compton era la donna che aveva cercato di coprire Kenneth Bianchi che era uno degli strangolatori della collina cercando di fare un omicidio lei per dire non può essere lui perché lui è dentro e il killer è ancora in giro cioè questa qua si mette che era in carcere anche lei si mette a corrispondere con Doug si scrivono le lettere e pare che lui le mandi le foto delle sue vittime perché dato che si stava difendendo da solo lui aveva l'accesso agli atti e si era conservato le foto delle vittime madonna ma io boh ma io boh invece questo è quello che è successo a Doug cosa è successo a Carol Carol appunto non è riuscita a farsi dichiarare in grado di intendere di volere non è riuscito a tenere l'immunità però riesce a patteggiare e viene quindi condannata solo per due omicidi ovviamente quello di Jack l'ha fatto tutto lei e quello di Kathy che comunque è quello che ha fatto insieme a Doug quindi condanna coerente lei però muore in carcere nel 2003 per problemi al cuore e questa sarebbe la fine della storia in realtà io Doug lo ascolterei per un'ultima volta perché Doug sostiene una cosa che non è così tanto campata per aria lui dice vabbè di essere innocente innocente non è perché hanno una caterva di prove e comunque come minimo hanno le foto di lui che fa BDSM con un undicenne quindi direi che non ci dispiace se lui è in carcere ok detto questo assolutamente detto questo lui sostiene che i Sunset Strip Slayers non siano Carol e lui e Doug bensì Carol e Jack la sua teoria è che che era Jack il killer che Carol l'ha dovuto fare l'ha voluto fare fuori per una litigata e che poi abbia incastrato lui e che la polizia avesse bisogno di qualcuno da condannare per l'opinione pubblica e non andava bene che fosse Jack perché Jack è morto questa teoria sembra campata per aria non è così campata per aria intanto la cosa che Carol mi sta ricattando per via delle foto con la bambina anche questa può avere un senso cioè tu non vuoi andare dalla polizia se qualcuno ha delle foto di te con un undicenne ma una cosa molto interessante è che ci sono un sacco di prove anche contro Jack che non ho non ho trovato tanti dettagli al riguardo e meglio così perché la puntata non sta finendo mai però è molto probabile che Jack c'entri c'è chi teorizza che addirittura loro fossero un trio diabolico che uccidessero addirittura in tre e che poi Jack ha fatto qualcosa che non andava bene o boh minacciava di confessare o qualcosa e quindi certo l'abbiano eliminato per quel motivo lì non lo sappiamo una cosa che vi so dire per certo è che Jack tra i suoi oggetti aveva un simpatico distintivo della polizia che risulta lui usasse per stuprare le tipe cioè per fare per andare dalle prostitute dire polizia in incognito mi segua e poi farci sesso senza pagarle certo quindi non ho parlato bene di Jack in questa puntata però ne ho parlato come un innocente fino adesso perché non lo sappiamo però mi sembra giusto dirvi che ci sono anche queste teorie che non sono così campate in aria come spesso queste teorie sono sì ha senso allora secondo me potrebbe potrebbe anche essere però come lo spieghi il diario di Doug dove confessa cioè dove scrive allora il fatto è che il diario parla di necrofilia di omicidi di cose ma non entra abbastanza nei dettagli per essere una prova schiacciante tu dici dovrebbe citare anche Jack non l'ho letto il diario quindi io non so non so come come siano scritte le cose magari è più un diario dove appunta pensieri a random questo non lo so non lo so o poi magari Jack non c'entra niente adesso non voglio dire che è stato lui però insomma sta roba del distintivo già lascia perplessi e questo rapporto con Carol che lui non tagliava mai cioè perché perché non tagli mai il rapporto con questa sì sì giusto sì sì ci sono sì è plausibile come come di scolpa ora Doug non era uno stinco di santo no Doug è una merda senza dubbio ma ma infatti appunto a me piaceva molto la teoria del trio diabolico però sono teorie ragazzi ve le riportiamo e sì 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 e basta fateci sapere voi cosa ne pensate di questa storia speriamo che vi siate goduti questa puntatona colossal che era un po' che non facevamo queste puntatone sì sì dai una ogni tanto ci vuole Marco sì sì una ogni tanto ci vuole no io volevo dire una cosa allora certo è possibile che Carol si sia voluta tenere il cognome Bundy per Ted Bundy però quando si è sposata con con Bundy con Grant Bundy era prima del 70 sì Ted Bundy è stato mi pare arrestato la prima volta nel 74 poi comunque l'ultima nel 78 sicuramente a febbraio del 78 dopo due evasioni quindi è venuto fuori dopo non può averlo sposato solo perché si chiama cioè non è quello no 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 poi si è detenuto magari per per quel motivo lì ma sai guarda vedendo come Carol che ha sempre bisogno di conferme può anche darsi che quando sono uscite le notizie su Ted Bundy lei abbia detto ah il mio stesso cognome e quindi poi si sia appassionata a Ted Bundy si è diventata fan proprio per quello cioè forse è proprio il contrario di quello che dice Doug no? è possibile sì sì possibile comunque sì è una storia assurda mamma mia sì sì è una roba che non non ci si crede e secondo no stavo ragionando il fatto è che ci mancano nel senso noi abbiamo raccontato le cose come si sanno certo non le cose che sono quindi è possibile che Jack fosse dentro nel trio o fosse lui effettivamente l'altra metà del cielo dei Sunset Sunset Strip 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 fosse lui è possibile è possibile cioè tutto tutto è possibile perché appunto non sappiamo esattamente come sono andate le cose eccetera cioè però il fatto è che ci sia il sangue in un capannone o in un magazzino noleggiato cioè affittato da Doug cioè dovrebbe diciamo scagionare Jack o dovrebbe comunque puntare sul trio quindi c'era c'entra anche Doug esatto no ma infatti la teoria che mi piace di più è il trio cioè io non riesco a dire Doug non c'entra niente ci sono troppe prove contro di lui o sono state tutte fabbricate come sostiene lui ma mi sembra un po' esagerato cioè non era una persona scomoda che andava eliminata per motivi politici quindi è infatti infatti sì ma anche per per condannarlo cioè non era una persona cioè nel senso non vale la pena costruire una roba del genere anche perché ci vuole uno sceneggiatore abbastanza cioè poi voglio dire a volte cioè costruiscono le cose finte su persone molto più importanti cose finte che non re cioè che reggono molto meno di quello che hanno fatto contro di lui quindi ma infatti ma comunque abbiamo una certezza tutte persone di merda in questa storia ma porca miseria cioè vabbè Carol fino a un certo punto comincia a fare cioè fa pena ti viene voglia di dire cioè nel senso purtroppo hai avuto una vita di merda però poi quando tira dentro la bambina undicenne e sì e poi per quanto fosse una merda Jack comunque l'ha decapitato cioè adesso sì sì beh anche no insomma e vabbè ragazzi con questa puntatona enorme noi vi annunciamo che da settimana prossima ci sono le capsule quindi se questa ve la siete ascoltata a pezzi meglio perché nelle prossime domeniche ci saranno puntate decisamente più corte di questa sì sì e vi terranno compagnia tutto agosto e anche un po' di settembre perché ragazzi abbiamo bisogno un attimo di staccare per la nostra sanità mentale e soprattutto per fare ricerche per poi ripartire a settembre a core quindi comunque e poi non vi lasciamo soli comunque ogni domenica esce una puntata di crema in comedy e avete notato il mercoledì stiamo cercando comunque di far uscire cose quindi buttate sempre un occhio mercoledì vi teniamo compagnia anche con questo caldo esatto poi per il resto se vi manchiamo troppo potete trovarci sui nostri social che sono instagram crema in comedy punto podcast o su telegram c'è crema in comedy group che vabbè andiamo in vacanza ma il cellulare ce lo portiamo dietro esatto ogni tanto magari rispondiamo pure no vabbè rispondiamo pure poi c'è il sito crema in comedy punto it dove c'è la sezione live in cui poi segneremo da quando torniamo dopo le vacanze tutte le nuove date che stiamo raccogliendo per poi pubblicarle esatto e poi c'è patron ovviamente quindi appunto se non vi bastano le capsule estive ci sono un botto di puntate extra che trovate su patron patron.com slash crema in comedy grazie mille a tutti ragazzi e a domenica prossima ciao 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 grazie mille a tutti